e allora buonasera benvenuti a tutti in questa magnifica sala del consiglio della camera di commercio di Catania un caro saluto anche a tutti i relatori che sono collegati streaming da remoto il convegno di oggi eh ha come eh titolo il mercato degli Emirati Arabi Uniti dopo Dubai Expo duemila e venti Dubai abita il Mediterraneo opportunità per le imprese in Sicilia il convegno è stato organizzato dalla camera di commercio del sud est Sicilia e dall'ordine dottori commercialisti eh di Catania in particolare dalla commissione internazionalizzazione di cui sono il consigliere delegato e dai colleghi dottore Luigi Falanga della dottoressa Giovanella Biondi che ringrazio per la proficua collaborazione l'obiettivo che il convegno si prefigge oggi è di approfondire le opportunità eh di cooperazione tra le imprese siciliane e italiane in generale e gli Emirati Arabi anche grazie a appunto al l'Expo eh Dubai duemila e venti e alla creazione di zone franche che hanno incentivato eh la eh la la hanno favorito la creazione anche di imprese eh a Dubai che sempre più sta diventando un hub per operare con le aree del Medio Oriente del sud-est asiatico e dell'Africa settentrionale. A questo punto Catania eh chiaramente può svolgere un ruolo fondamentale perché eh grazie alla sua vocazione commerciale anche al fatto che sono stati attivati dei collegamenti eh di voli diretti con Dubai questo diciamo può favorire anche un interscambio diretto fra Catania, la Sicilia e eh gli Emirati Arabi. Ora il programma del convegno è articolato in interventi di numerosi e qualificati relatori in rappresentanza anche di eh autorevoli istituzioni quali appunto Sicindustria, Ipizza, la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi, lì c'è la Sace, la Simest e ci dovrebbe essere anche la SAC. A questo punto eh vi auguro buon convegno e passo subito la parola al presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Catania e dottore Salvatore Virgilito. Grazie Alessandro eh buonasera a tutti i presenti e collegati eh in via preliminare ovviamente porti saluti dell'intero consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e gli aspetti contabili che eh oggi rappresento. Non c'è dubbio che mi debbo congratulare con gli organizzatori tutti per quest'evento che ritengo che sia di notevole diciamo valenza e importanza e spenderò due parole visto il numero diciamo rilevante dei relatori ma mi volevo anche eh complimentare con gli organizzatori perché sono riusciti a a creare un clima da deserto perché qua oggi fa veramente caldo e quindi questa è una congratulazione degli organizzatori. Il tema di oggi, il focus di oggi ritengo che ehm anche per gli argomenti per le possibilità e di notevole diciamo entità di notevole rilevo. Forse ancora deve essere veicolato con maggiore diciamo convinzione, con maggiore forza perché se ci andiamo a eh confrontare con quella che è la nostra realtà quotidiana, la nostra realtà economica per quanti siamo i professionisti ritengo che bisogna incominciare a ragionare ad avere un respiro più ampio per noi professionisti e soprattutto per giovani dare delle possibilità di sbocco che sicuramente oggi sulla realtà nostra è più difficile avere e quindi bisogna diciamo pensare anche andare oltre. Il tema di oggi sicuramente interessante perché ci saranno delle testimonianze non vi è dubbio che quando ci si confronta con realtà diverse da quello in cui siamo abituati ad operare qualche eh perplessità preoccupazione diciamo eh ci sia. Io ho avuto un'esperienza lavorativa circa dieci anni fa eh con una società una grossa società in amministrazione giudiziaria che abbiamo vinto una gara d'appalto di non mi ricordo 40 milioni di euro di più non mi ricordo comunque una commessa molto grossa e obiettivamente confrontarci con quelle realtà non nascondo che abbiamo avuto grosse difficoltà perché non avevamo idea come muoverci. Quindi se oggi nella nostra realtà catenese ci sono professionisti come quelli al tavolo stasera eh di questo compegno sicuramente possono dare un apporto significativo importante affinché chi si vuole diciamo approcciare con questa realtà debba avere dei riferimenti ben precisi sicuramente bisogna approcciarsi sempre a mio modo di vedere con cautela con quelle che sono le normative diverse da quelle in cui ci confrontiamo quotidianamente quindi diciamo un apprezzamento marcato per l'organizzazione di questo convegno e ritengo che deve essere diciamo l'inizio di successivi eventi affinché si possa diciamo veicolare sempre di più la possibilità per tutti quanti ma soprattutto per i giovani per avere degli sbocchi lavorativi di ampio diciamo respiro quindi grazie vi auguro buon lavoro e buona persecuzione io ascolterò un pochettino però per impegni professionali poi mi dovrò allontanare buon lavoro grazie presidente grazie sì grazie presidente allora passo subito la parola a questo punto al eh dottore Dino Salerno che è collegato da remoto che è delegato all'internazionalizzazione di Cici Industria sì buonasera a tutti eh mi dispiace molto non poter partecipare direttamente ma in questo momento mi trovo a Milano e sto per andare in mi fa molto piacere questa iniziativa e sono sicuro che potrà dare un grande aiuto e impulso a tutti gli imprenditori e a tutti i professionisti che si stanno occupando di questo paese perché ritengo che in questo momento in cui tutti abbiamo bisogno e necessità di espandere il nostro mercato allargare il nostro campo d'azione eh attività come queste sono sicuramente interessanti Sici Industria si è sempre dimostrata eh vicina e pronta a portare avanti i progetti e le problematiche che che così sorgono di giorno in giorno ma vi dico ancora una volta che per la Sicilia la possibilità di poter accedere a un mercato di questo tipo che guarda da sempre con una uno sguardo veramente di di professionalità e di crescita eh rivolto a tutti sia a chi acquista sia a chi vende per cui ritengo che eh i i campi di applicazione sono infiniti perché parliamo di turismo parliamo di agroalimentare parliamo di fintech parliamo di settori manifatturieri di tutti i tipi per cui nessuno rimane fuori da un contesto del genere quindi perché eh non utilizzare questa occasione per fare un passo avanti e cercare di dare una mano alle imprese che oggi rispetto ad anni addietro si muovono nel mercato internazionale con un con dei numeri diversi perché per esempio il settore agroalimentare in Sicilia come export è cresciuto negli ultimi anni in maniera esponenziale il settore dell'energia il manifatturiero e anche del del turismo del turismo culturale del turismo gastronomico quindi eh ben vengano iniziative come questa e complimenti a Luigi che ha eh così messo in piedi questo progetto vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti rimarrò collegato ancora per un po' dopodiché purtroppo vi dovrò lasciare grazie grazie dottore Salerno grazie dottore grazie a voi allora eh abbiamo adesso un in un video che ci ha mandato il eh Jokernet che è il CEO eh di eh IFIZA che eh International Free Zone Authority la zona franca praticamente di di Dubai eh 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 ecco sì good afternoon in the zone My name is Jochen Knitt, and on behalf of the International Freedom Authority, I would like to thank the Charles Feesaline, King of Prunheim, the Campania Association of Chi of the Conference, for the opportunity to speak in this event, that aims to strengthen the richest prize, for the opportunity for mutual success. Although I couldn't be there physically, the wonders of modern technology brought us together, now I need to share my thoughts, so I can say we are at the middle of a dramatic relationship. Creation and technology are advancing at an unprecedented rate, which can be taken, not only our personal lives, also our society, our economy, the environment, this rapid revolution sends both challenges and opportunities. There are many unforeseen events that we have come across, and many will also come across, that said, they ultimately depend on how well we navigate through the exchanges to find innovative solutions that will give us a drive around them. But, before we move forward to the future, we need to take a quick step back to learn about the lessons of the past, and understand the realities of the present. Only fifty three minutes ago, the Bight saw him, six other emirates, and came together to form an each effort, a united eric emirates. Historic move that came to respond to the rapid changes after the discovery of the present. In the millennium, he thought of a question of the importance of the leaders' claim on partnerships that collectively create a secure, success for his money. In the decades that followed, the UIT has built a strong reputation for its future nation to create an impact to the region and the world, not only in terms of economics, but also the fields of government, technology, innovation, persuadability, and humanitarian efforts. Today, we are benefiting from these efforts to position the Bight, the rest of the UIT, as facilitated, and multiplied, of opportunities. For the first-hand witness of the extraordinary journey of Dubai, I have seen how it sparked and ignites the enterprise experience. Twenty-five years ago, I reached to Dubai, as a team of industrialists, having had decades of experience in some of the world's most prominent institutions, not as a mere replica of Europe or any other region, but as a dynamic force that takes the fence from around the world to tailor this to a unique landscape. Here, a European resident and his family can find a lifestyle they are accustomed to. Dubai ruled with the destination at the crossroads of the world, an emerald of more than 300 nationalities that provides opportunity from Dubai to the world. For me, Dubai is not of the place, so glistens in notion. Dubai is a clear direction towards the tunnel of one of the happiest-hearted cities of the world. This business drives Dubai's target, focus point, centered on creating a society that drives economically, environmentally, and socially. Dubai is one of all the key cities in the world, as an essential set, a whole country in the center, which aims to reduce data and its quality versus resources to measure and impact the happiness of its citizens and its big expectations. Rather than ask, what does it mean to be happy, our leadership has asked the question, what do we need to be happy? This goal of making Dubai the happiest, smartest city in the world has already led to many positive prospects. Dubai has been leveraging to emerging technologies such as blockchain. the physical intelligence and data science, deliver more personal life, more efficient or sustainable services for its residents and visitors. In fact, three years ago, Dubai government has achieved its goal of becoming a 100% paperless government. It has resulted in cutting down the use of up to 36 million inches of paper during its own presentation. Dubai has also made great efforts in giving its residents a physical speak of mind. For example, it has ranked first in the Women, Peace and Security Commission, where almost 99% of women said that they felt safe walking alone in their neighborhoods at night. As a father, I am truly grateful to be in touch with safe and secure nutrition. Dubai transcends the territory, is driven by action, from its leadership down to its people. Dubai has honored heritage as an oil-based economy to transform itself and invest in future-focused industries, building world-class infrastructure for air, sea, land and rail. Striking a delicate balance between deregulation and international standards, Dubai has proven its quick action and resilience, particularly over the recent global events. Dubai is a community that leads strong individuals who seem to excel, providing clear rules and regulations that create a fair environment for everyone, are physically achieved. While performance is paramount, Dubai also extends the health insurance to those in need to, showcasing its commitment to social responsibility. Through initiatives, that was the 1 billion-year program that has provided food aid with nobles of families around the world, creating access and opportunities to people of determination. Globally, Dubai is also recognized as a hub for crisis and relief efforts. For the past 20 years, Dubai has utilized its strategic position and logistic infrastructure to quickly mobilize the ethics of organizations, such as the United Nations, the Red Cross, the Red Trash, the Softness Without Borders, and many others. From the COVID pandemic with sponsors in Asia and Africa, to the Earth rates in Turkey and Syria, Dubai's exit is focused beyond the here and now. Investing in the future and embracing cutting-edge innovations and technologies are embedded to Dubai's DNA. From the efficient transport projects such as the Hyperloop, to the next generation of agricultural and renewable energy, Dubai has successfully transitioned away from all economies, ensuring sustainable growth, development for generations to come. We only need to look at the Dubai economic agenda, or T33, and see the leadership's greater efficiency to grow the Dubai economy to 8.7 trillion by 2030, adding 400 more cities to explore trade-offs, and launching a sandbox project for the testing, commercialization of new technologies. And speaking about tech, Dubai's ambition for growth in its exciting career, particularly in this short-term goals, include attracting at least 300 new digital products to Dubai by the end of 2024, and having a digital economy worth over $100 billion annually by 2031. Dubai is also home to the international program for builders, which aims to attract 100,000 builders from around the world, providing them with different incentives and supports. But Dubai's achievements are not limited to stunning skyline for economic success. It's those educational institutions tailored to students from specific countries, ensuring a world-class education for all. Additionally, Dubai's position is one of the top three UTECH courthouse in the world, after Hong Kong today, offering unmatched trade opportunities and access in market, not only in the UAE, but more importantly, through the UAE, to the Middle East, as the current invasion. It is on these important partations that it is on these important partations that ISSA is held up. ISSA is working under a Dubai government organization that's a function as a pre-zone that drives authoritarian investment to the UAE. Over the past three years, we have managed to register over 20,000 companies within our visual community, placing us on a hard world-dynamic road. If you want to set up your business in Dubai, ISSA provides peace of mind on-border with simplified processes, supported by people and experts from total 16 nationalities. We also made it more convenient for international visitors to complete their free-zone company setup without physically struggling with them. Beyond providing the benefits that work in Kingdide, a whole-touch environment with access to the world-class transportation infrastructure, we have designed a unique free-zone ecosystem that offers much-needed support to distance it even after a company program, whether in providing modern office space, opening for presented cards, advanced professional training, and more. From day one of ISSA, we took an activity. We stepped away from our guests and comfortable offices and went out to the world because our fundamental purpose should constitute to the UAE's FDI by presenting divide to the world and bringing the world and its investors to the UAE. Driven by our unique approach and fast-grown global network of 1,500 trusted representatives actively reached now to their own business. We like to think of ourselves as a bridge to us. First, between government and business, by simplifying processes and facilitating seamless interaction, we supported them to comply with all those of the national regulations that we need to do with them. We also act as a bridge between Dubai and the world by attracting co-directed investment with a tentative network of communities across the globe. In fact, incoctation will be provided to the destination of infinite opportunities, a place where beings have moved and theder waves and e-bijeives. A perceived tip towards beyond words, actively driving topics as experiments. As a CEO of IPSSA, I have worked with first-hand the founded potential to buy offers and businesses from around the world. I invite each and every one of you Let's explore the possibilities that great for you for this great activity whether you are a business owner a startup authorized partner or even someone that can start your career we are here to support you Let's build the knowledge together Thank you for your attention I'm looking forward to seeing you Goodbye C'è una comunicazione di servizio Il remoto appunto stiamo in streaming con YouTube e devo comunicare che l'informativa privacy affissa sulle porte appunto l'ingresso della sala Passo adesso la parola sempre remoto al dottore Amedeo Scarpa che è direttore dell'ufficio ICE di Dubai L'intervento avrà come titolo i principali settori dell'esport italiano opportunità per una cooperazione win-win tra Emirates e Zessi italiani Prego dottore Buon pomeriggio buonasera a tutti qui sono le 6.90 a Dubai 6.15 Volevo ringraziare gli organizzatori e anche ovviamente la Camera di Commercio d'Italian Gratina per tutti saluto e ringrazio il Presidente Stefano Campagna per aver esteso l'invito a dare un contributo anche a l'ICE come sapete l'Agenzia del Governo Italiano per la internazionalizzazione delle imprese e la promozione del Made in Italy soprattutto piccole e medie come quelle del tessuto produttivo siciliano in questi pochi minuti vorrei toccare appunto come mi ha anticipato lei questi due argomenti cosa è che esporta l'Italia quindi da dove partiamo e come sono andate le esportazioni italiane nell'ultimo anno o nell'ultimo primestre e poi se e come ci sono possibilità di collaborazione anche per attrazione investimenti emiratini nella Sicilia orientale forte della presenza per esempio appunto di zone economiche speciali per quanto riguarda i settori di prevalente interesse export italiano chi frequenta questo mercato sa bene che insomma è un mercato della grande soddisfazione l'Italia perché noi siamo al nono posto assoluto tra i fornitori e tra i 27 paesi UE siamo secondi solo alla Germania la quota di mercato negli ultimi 5 anni ma comunque strutturalmente dell'Italia uscilla intorno al 2,4-2,7% e la cosa interessante parlando di dati e di settori è che lo scorso anno noi abbiamo registrato il record assoluto di export italiano verso gli Emirati Arabi Uniti quindi sarà stato pure l'effetto diciamo rimbalzo dopo la pandemia l'effetto di export sarà stato anche un effetto diciamo inflazione sui prezzi ma resta il fatto che lo scorso anno l'Italia per la prima volta della storia in assoluto ha esportato 6 miliardi di beni 6 miliardi di euro di beni ed è l'unico paese al mondo io sono inizio da 30 anni ho avuto la fortuna di girare dal Brasile alla Cina è l'unico paese al mondo dove un solo prodotto fa praticamente un sesto dell'export vedete non un sistema meccanico è al secondo posto quasi un miliardo o l'agroalimentare che è quello che cresce di più ma la gioielleria allora voi direte e se non siamo produttori di gioielli e quindi non rientriamo in quel miliardo e cento miliardo e due dello scorso anno ma è interessante il fatto che appunto la gioielleria sia il primo prodotto export italiano per un altro motivo non per il prodotto in itself ma per il fatto che proprio questa cosa è la prova evidente della complementarietà della possibile complementarietà fra i due sistemi perché? perché l'Italia importa noi importiamo molto meno importiamo circa 2 miliardi quindi abbiamo un surplus di 4 miliardi ne sportiamo 6 ne importiamo 2 6 meno 2 è 4 ma insomma non è quello il punto di nuovo voglio dire ma la prima voce import dell'Italia dagli Emirati Arabi Uniti è oro e pietre preziose noi le importiamo le lavoriamo in Italia aggiungiamo valore le trasformiamo in gioielli e la prima voce di esportazione dell'Italia ripeto mutatis mutandis insomma nei valori evidentemente è gioielleria quindi sono due sistemi che già dialogano per due motivi uno perché poi anche tutta questa gioielleria o questa meccanica o quest'agroalimentare come qualcuno già accennava non è destinata solo al mercato interno alla fine questo è un mercato piccolo sono appena 10 milioni di persone di cui solo un milione di emiratini 2 milioni e 2 di indiani 1 e 2 di pakistani e così via quindi attenzione anche quando arrivate qui voi avrete a che fare soprattutto con questi expert ma anche per il fatto che appunto prevalentemente i prodotti che poi vengono importati per esempio in zone economiche speciali emiratine vengono riesportati verso paesi viciniori per insomma larga parte di questo parlerete anche con i colleghi della camera ma quello che io volevo far presente è che se è vero che in 5 ore di volo da Dubai si raggiungono 3 miliardi di potenziali consumatori dall'Africa al bacino sud del Mediterraneo fino al sud-est asiatico ebbene allora questo vuol dire che questo paese può continuare ad essere una piattaforma importante per la riesportazione da Dubai verso tutta questa parte del mondo del Made in Italy e in questo caso del Made in Sicily l'ultima parte del mio intervento sarà sul tipo di aiuto che possiamo dare noi alle PMI ma volevo concentrarmi su secondo me quello che può essere diciamo la sfida il challenging l'aging dei prossimi anni di collaborazione tra l'isola tra la Sicilia e questo posto ho accennato al fatto che ci sono tante zone economiche speciali dove qui vengono sostanzialmente in free zone stoccati i beni hanno una serie di facilitazioni non pagano dazio se non vengono immessi nel mercato emiratino in mainland e ripartono per Africa sud-est asiatico India ecc questo grazie al fatto che Dubai ha una delle infrastrutture logistiche più importanti e più efficienti al mondo seconda solo ai cinesi e allora se la Sicilia orientale riesce ad avere a fare collaborazione strategica con le sue zone economiche speciali che possono anche essere punto di trasformazione oltre che di commercializzazione verso gli emirati ma anche di parte dei prodotti che gli emirati riesportano per esempio anche verso l'Europa se lo fanno verso l'Africa verso il sud-est asiatico hanno qualche difficoltà a farlo verso l'Europa evidentemente si creano occasioni di collaborazione di medio e lungo periodo vantaggiose per entrambi da qui il win-win quindi immaginate la carta geografica c'è questa grande rete questo grande network di navi che partono da DP1 dal secondo porto al mondo forse il terzo dopo Shanghai e quello di Rotterdam e vanno in tutto il mondo ma hanno bisogno di ganci di agganciarsi ad una parte geografica meridionale dell'Europa quindi l'idea di creare occasioni di collaborazione tra le zone economiche speciali o DP World di Dubai e la zona economica speciale della Sicilia orientale nasce da questo dirà questa è una idea una bella idea ma in realtà su questo punto non è stato fatto niente o non si può fare niente tanto bella che non si fa nulla allora torno a presentare lo schermo e poi tra poco tra due minuti mi taccio perché vi faccio vedere se si riesce insomma a vedere il giornale la Sicilia il vostro giornale di sabato 6 maggio 2023 in Italia e in Sicilia avremo una grande occasione il PNRR vedete sia il presidente della regione che il ministro Fitto provano hanno provato stanno provando anche con la conferenza Stato-Regioni a mettere a sistema sia gli interventi del PNRR che è quelli del Fondo Sociale Europeo ed altri fondi dell'Unione Europea come ha ricordato anche la nostra Premier in quei giorni qui a Dubai c'era la conferenza mondiale delle zone economiche speciali ed il commissario straordinario e il commissario del governo Alessandro Di Graziano per la zona economica speciale della Sicilia orientale è venuto qui lo abbiamo assistito noi dice Dubai e mentre partecipava a questa conferenza in parallelo gli abbiamo organizzato una serie di B2B meetings per esplorare possibilità di investire nel sud Italia e in Sicilia orientale per appunto sia produrre o trasformare in quella parte dell'Italia ed esportare in Europa o aiutare la riesportazione da Dubai verso il resto dell'Europa gli abbiamo organizzato appuntamenti su questi settori e questi sono i settori che gli Emiratini hanno ritenuto di particolare interesse come possibile potenziale investimento loro nella ZES della Sicilia orientale energia mobilità infrastrutture e in generale ricerca e sviluppo io non vi faccio i nomi degli interlocutori con cui abbiamo messo in contatto il commissario Di Graziano però posso dirvi sicuramente che anche tra gli interlocutori istituzionali abbiamo insomma alzato molto lo standing per esempio abbiamo realizzato appuntamenti con la Dubai Future Foundation che è la più grossa fondazione appunto Emiratina Dubai in questo caso che si occupa di incubazione di start up sviluppo di start up attraverso Dubai Future Labs e anche con la Sharjah Investment e Development Authority gli altri erano interlocutori privati dei settori che vi ho citato ai quali appunto la zona economica speciale da Sicilia ha presentato le facilitazioni per possibilità di investimento e di collaborazione quindi guardate al futuro perché questo vuole diventare non solo un trade hub ma anche un manufacturing hub e quanto a forza manufatturiera l'Italia è secondo tra tutti i paesi europei chiudo mostrandovi cosa può fare ICE per voi e per le piccole e medie imprese che sono nella fase diciamo di affaccio al mercato emiratino se voi entrate sul sito di ICE agenzia www.ice.it andate sulla pagina servizi trovate il catalogo l'elenco di tutti i servizi che ICE può mettere a vostra disposizione in 80 paesi e anche nel mercato emiratino attraverso questo ufficio la registrazione sul nostro sistema per assistenza è gratuita molti di questi servizi come vedete i noti informativi sui mercati sono i servizi per conoscere sono gratuiti e li forniamo gratuitamente apro parentesi non per i consulenti ma per i dipendenti di aziende fino a 100 dipendenti opportunità commerciali anche prima grandi progetti finanziamenti internazionali export in pillole il tuo prodotto sul mercato elenchi di operatori esteri di importatori di distributori di agenti di rivenditori statistiche e informazioni sul commercio estero fino alle ricerche di mercato e una prima assistenza per soluzione pacifica delle controversie è evidente che ci sono poi una serie di servizi a maggior valore aggiunto per i quali noi dedichiamo più tempo specifico per un'azienda e in quel caso procediamo con un corrispettivo evidentemente ad un costo molto contenuto perché ricordo che è un'agenzia governativa e quindi i nostri costi di funzionamento sono sostenuti appunto dal governo e siamo sotto l'indirizzo e il controllo del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale io mi fermo qui lasciandovi solo il nostro indirizzo e-mail che è la maniera più semplice per contattarci e per spiegarvi che tipo di servizi possiamo offrirvi ed è dubai chiocciola ic come istituto commercio estero punto it e vi ripasso la linea grazie allora un attimino grazie dottore Scarpa abbiamo ci siamo alle seconde microfono è acceso però mi devo avvicinare forse allora do la parola un attimino all'ingegnere Stefano Campagna che è presidente della camera di commercio italiana degli emirati arabi perché vuole salutare appunto il dottore Scarpa ciao Medeo solo per mandarti un abbraccio e dirti a presto a Dubai io poi tra poco dovrò scollegarmi ma insomma scrivetemi qualsiasi cosa per approfondimenti grazie grazie appunto per l'intervento del dottore Scarpa che ha questo osservatorio appunto speciale qual è l'istituto del commercio estero che c'ha appunto lo suo osservatorio ci ha fatto capire che la Sicilia orientale potrebbe diventare un hub a sua volta appunto per tutta l'Europa per poter tramite le zone economiche speciali creare quell'imprenditorialità che possa esportare appunto il nostro Made in Italy che è unico al mondo chiaramente che viene richiesto in tutti i paesi orientali dell'Asia del sud est asiatico e quindi c'è questa enorme richiesta fatto sta appunto che la gioielleria appunto è l'evoluzione di quella che è l'arte la bellezza dello stile italiano così come anche la moda e tutti i prodotti appunto del Made in Italy passo adesso la parola a Sace nella persona del Regional Manager Middle East Head of Dubai Office appunto di Sace il dottore Ciro Aquino salve buon pomeriggio a tutti un saluto a tutti gli organizzatori grazie dell'invito io mi soffermo soprattutto sugli strumenti e sulle soluzioni che Sace offre diciamo all'estero attraverso la sua rete internazionale la mia collega poi Chiara che lì in sede con voi si soffermerà invece sugli strumenti a disposizione della nostra rete domestica voglio cominciare con darvi un overview di ciò che Sace rappresenta Sace è il gruppo assicurativo finanziario italiano direttamente controllato dal ministero delle economie e delle finanze specializzato nel sostegno alle imprese al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di soluzioni di strumenti a supporto della competitività delle imprese italiane in Italia e nel mondo insieme a tutte le altre società del gruppo quindi Sace BT attiva nei rami credito e cauzioni Sace FCT che opera nel settore del factoring Sace SFV specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo serviamo circa 32 mila aziende soprattutto PMI supportando nella crescita sia in Italia che in oltre 200 mercati esteri oltre ad una radicata presenza sul territorio nazionale quindi come Adporter a Roma Sace appunto nuovi uffici in giro per il mondo l'ufficio di Dubai è stato aperto nel 2016 e rappresenta il primo punto di contatto con i grandi buyer esteri nell'area del golfo qui noi operiamo in sinergia con le imprese italiane attive della regione le rispettive controparti locali con attività che vanno dall'origination delle opportunità commerciali alla finalizzazione delle transazioni passando anche attraverso la fase del credit assessment delle controparti coinvolte nelle potenziali operazioni di business l'ufficio si occupa anche di rappresentare Sace all'estero organizziamo eventi nella regione per promuovere l'internazionalizzazione delle aziende italiane lavorando in stretta collaborazione con gli altri attori del sistema Italia dal 2018 l'ufficio di Dubai ha originato operazioni di export credit per un totale di circa 6 miliardi di euro e operazioni push strategy per un totale di circa 3 miliardi di euro ora mi soffermerò maggiormente sulla nostra soluzione push che potremmo definire lo strumento più appealing per i buyer esteri soprattutto in questa particolare area geografica a differenza del classico export credit dove la facility garantita da Sace è legata ad uno specifico contratto commerciale la push quando parliamo di push strategy parliamo di una facility undive si tratta di una facility general porpus non collegata ad alcun contratto commerciale il nostro compito è soprattutto quello di andare ad individuare i potenziali borrower sulla base del track record pregresso in termini di procurement dall'italia ma soprattutto sulla base di ciò che potrebbero potenzialmente acquistare dall'italia in termini di beni e servizi facendo riferimento alle proprie capex e ai piani di investimento con la push strategy Sace copre quindi all'80% i finanziamenti general porpus a medio e lungo termine concessi da banche italiane banche internazionali o banche locali a clienti stranieri con l'obiettivo di migliorare il posizionamento delle nostre imprese nella supply chain di questi di questi buyer e andare quindi a generare dell'export italiano aggiuntivo al momento grazie alla nostra operatività push possiamo dire che a livello globale l'export aggiuntivo generato è di circa 2 miliardi di euro la caratteristica principale della nostra push strategy è la push letter quindi un agreement che viene firmato tra Sace e il buyer nel quale il buyer si impegna a raggiungere determinati obiettivi di approvvigionamento dall'Italia su base a best effort ottenendo nel caso in cui vada a raggiungere questi target un discount sul premio da pagare all'azienda e a partecipare a degli eventi di business matching che vengono organizzati da noi con l'ausilio del nostro team di business promotion a Roma su questo poi la mia collega vi darà maggiori dettagli gli eventi di matchmaking ci consentono a valle diciamo dell'analisi del procurement del buyer di mettere in contatto direttamente gli acquirenti locali con le nostre PNI e quindi con la rispettiva catena di fornitura italiana mi prego a sottolineare come sia probabilmente questo lo scopo principale della nostra operatività push cioè quello di dare alle nostre aziende la possibilità di entrare direttamente in contatto con i grossi buyer locali che avrebbero altrimenti difficoltà a raggiungere da soli sono diverse le operazioni push che abbiamo chiuso nella regione tutte con ottimi risultati in termini di opportunità di business per le nostre aziende voglio infine sottolineare la capacità di Sace di adattarsi alle criticità del mercato a seguito del conflitto russo-ucraino e quindi per contrastare diciamo le scarse forniture di determinate commodity al nostro tessuto economico nazionale Sace ha adattato questo modello push quindi untide ad una nuova operatività l'import strategico si tratta anche qui di una facility di untide coperta da Sace all'ottanta per cento che ha come borrower società in grado di fornire determinate commodity al nostro tessuto economico nazionale in questo caso a fronte della facility garantita da Sace il commitment del borrower non è quello di acquistare su base best effort beni e servizi da aziende italiane bensì quello di mettere a disposizione per la durata della vita della facility del nostro paese determinate commodity per le quali c'è carenza diciamo che sono state chiuse in questo senso diverse operazioni negli ultimi mesi tutte hanno avuto come sottostante forniture di gas all'Italia lascio la parola alla mia collega che vi darà indicazioni sulle soluzioni Sace a disposizione delle aziende italiane attraverso la nostra rete domestica in Italia grazie a tutti la relazione sempre per Sace la dottoressa Chiara Pollicina che è qui presente e che ci continuerà a illustrare i servizi che offre appunto questa società dal punto di vista a sostegno delle imprese italiane dal punto di vista sia finanziario che assicurativo prego grazie buon pomeriggio a tutti e rinnovo i ringraziamenti fatti anche dagli altri relatori nei confronti degli organizzatori della Camera di Commercio e anche dell'Ordine dei Dottori e commercialisti degli esperti contabili di Catania e come anticipato io sono la referente per le PMI del territorio siciliano quindi seguo la relazione con tutte quelle società che hanno un fatturato inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in Sicilia e seguo anche la relazione con i commercialisti e con i partner sul territorio questo infatti prima di entrare in quelle che sono gli strumenti che Sace può offrire alle imprese ci tengo anche a precisare che da quest'anno stiamo facendo anche diversi stiamo facendo anche diverse collaborazioni con i commercialisti sul territorio proprio per intensificare la collaborazione e proprio questo valore di vicinanza che noi abbiamo alle imprese del territorio entrando nel merito di quello che fa Sace e come Sace può supportare le aziende che operano sul territorio siciliano innanzitutto l'importanza di Sace è quella di far conoscere alle aziende il mercato come facciamo che strumento offriamo alle aziende siciliane per conoscere il mercato abbiamo la nostra mappa dei rischi che è quella che vedete qui nelle slide dove ad ogni mercato corrisponde un colore che va da un profilo di rischio più basso che è un colore verde ad un profilo di rischio più elevato l'arancione e il rosso si tratta di uno strumento gratuito che noi di Sace offriamo alle aziende proprio per conoscere il mercato ed è consultabile all'interno del nostro sito basta infatti entrare all'interno della nostra pagina dedicata cliccare sul mercato di interesse e da lì scaricare una serie di informazioni su quel determinato mercato quindi ad esempio sul mercato degli Emirati Arabi potete trovare tutte delle informazioni sia per quanto riguarda il profilo di rischio sia per quanto riguarda i dati sulle importazioni e le esportazioni in quel determinato paese un altro strumento gratuito che noi offriamo è quello di formazione abbiamo infatti un hub formativo dedicato alle aziende dove in base al grado di internazionalizzazione della società noi offriamo delle videopillole gratuite e consultabili dove si possono apprendere degli strumenti quindi sapere come entrare in quel determinato mercato sapere come orientarsi su quel mercato e oltre a questo facciamo anche dei focus settoriali e anche dei corsi di formazione dei master con le principali business school e le principali università importante anche ciò di cui parlava prima il dottor Aquino ovvero noi mettiamo un altro strumento che noi mettiamo a disposizione è quello del programma business promotion che significa che noi di Sace mettiamo gratuitamente in contatto gli esportatori italiani con i buyer esteri che operano in un determinato mercato e anche in determinati settori da qui per esempio potete anche scansionare il QR code per arrivare direttamente all'interno della nostra pagina potete registrarvi gratuitamente e da lì vedrete tutti i buyer con cui noi siamo in contatto buyer che sono già prevalutati da Sace oppure beneficiari di una linea push strategy come accennava prima il dottor Aquino in questo caso noi che cosa facciamo mettiamo in contatto gli esportatori italiani con il buyer durante una sessione plenaria che può essere in Italia all'estero o online dove il buyer spiega quelle che sono le sue necessità e successivamente a valle di questo incontro plenario vengono organizzati degli incontri B2B oppure vengono fatti circolare i contatti quindi questi sono degli strumenti gratuiti che noi di Sace offriamo quindi è importante per l'esportatore italiano conoscere intanto il mercato capire come poter affrontare quel determinato mercato mettiamo anche a disposizione questo strumento di business matching in modo che possa conoscere delle controparti nuove ma una volta che di fronte ad una controparte extra che cosa facciamo come Sace può supportare l'esportatore italiano noi siamo principalmente conosciuti come agenzia di credito all'esportazione dove noi andiamo ad assicurare l'esportatore italiano contro il rischio di mancato pagamento da parte della controparte estera che significa che voi se vi fate pagare in via dilazionata dal vostro cliente estero noi possiamo intervenire contro il rischio di mancato pagamento rischio di mancato pagamento che può essere relativo sia a motivazioni di carattere politico quindi collegate a problematiche del paese estero sia a motivi di carattere commerciale quindi effettivamente il vostro cliente è insolvente di diritto di fatto questi sono un po' i rischi che noi possiamo coprire noi possiamo coprire quindi quello che è il rischio di credito quindi il rischio di mancato pagamento ma possiamo coprire anche tutta un'altra serie di rischi per esempio se andate ad affrontare una fornitura che è customizzata e quindi poi avete difficoltà a rivendere la fornitura nel caso in cui il vostro buyer dovesse revocare la commessa possiamo coprirvi dal rischio di produzione ma allo stesso tempo possiamo coprirvi anche dal rischio di distruzione dei macchinari qualora i macchinari per esempio per realizzare un lavoro all'estero vengono esportati temporaneamente quindi possiamo coprirvi dal rischio di distruzione o confisca di quei determinati macchinari e possiamo anche coprirvi dal rischio di indebite escursione della fidegiusione per richiedere un'assicurazione del credito a sacio è molto semplice a parte che ci sono appunto io che sono sul territorio quindi potete tranquillamente confrontarmi con me per qualsiasi esigenza noi abbiamo un portale dove potete inserire una richiesta per capire se il vostro cliente è affidabile oppure no e noi nel giro di massimo 15 giorni lavorativi vi diamo l'esito una volta ottenuto l'esito quell'esito è bloccato per tre mesi quindi questo significa che voi potete chiedere a sacio un parere anche in fase di negoziazione col vostro cliente per capire se noi possiamo intervenire oppure no noi possiamo intervenire a livello assicurativo assicurando la singola la singola commessa oppure concedendovi un plafond nei confronti di determinati clienti oppure possiamo assicurare anche il vostro intero fatturato in Italia all'estero o entrambi oppure qualora siete già assicurati con un'altra compagnia assicurativa possiamo incrementare il massimale tramite un prodotto che si chiama top up quindi possiamo incrementare le vostre linee nei confronti di un determinato buyer estero un altro modo in cui noi di SACE possiamo intervenire è a garanzia dell'istituto bancario che rilascia una fideiussione molto spesso magari quando voi dovete realizzare un lavoro all'estero il contratto commerciale prevede il rilascio di una garanzia contrattuale un bid bond un advance un performance in quel caso voi vi rivolgete al vostro istituto bancario di riferimento che va a rilasciare la garanzia contrattuale ma l'istituto bancario può chiedere una condivisione del rischio a SACE in modo che così voi possiate incrementare la linea di fido disponibile presso il sistema bancario un altro modo in cui noi di SACE nell'ambito export e internazionalizzazione possiamo intervenire è la garanzia noi di SACE non eroghiamo direttamente finanza ma andiamo a garantire l'istituto bancario che eroga il finanziamento finanziamento che può essere destinato a supportare il capitale circolante quindi a pagare i fornitori per poi incrementare la vostra quota export per esempio avete un'importante commessa negli Emirati Are vi avete bisogno di pagare i vostri fornitori per affrontare la commessa oppure volete ancora incrementare la capacità produttiva presso il vostro stabilimento per poi incrementare la quota export ecco in tutti questi casi noi di SACE possiamo intervenire e andiamo a rilasciare una garanzia all'istituto bancario importante è che la nostra garanzia non impatta sul de minimis ed è anche molto importante perché tramite la nostra garanzia riuscite ad incrementare le linee presso il sistema bancario e allo stesso tempo si entra anche in un meccanismo di visibilità poiché molto spesso potete essere contattati anche da SACE per eventi e testimonianze questo è un po' tutto quello che riguarda il sostegno all'export e all'internazionalizzazione che il gruppo SACE può offrire ma possiamo offrire anche tutta un'altra serie di servizi anche in Italia ad esempio nell'ambito green o nell'ambito delle misure emergenziali questo però per darvi giusto una panoramica poi per qualsiasi necessità potete contattarmi consideratemi a piena disposizione per qualsiasi confronto e approfondimento grazie mille veramente una relazione molto chiara i servizi che fornisce SACE appunto all'esportazione all'internazionalizzazione sono fondamentali appunto i rischi di appunto di esportazione vengono coperti aiuto anche garanzia per l'accesso al credito quindi devo dire che SACE è veramente a sostegno delle imprese che esportano italiane che esportano all'estero e adesso un particolare saluto e un ringraziamento per essere qui con noi all'ingegnere Stefano Campagna che ringrazia appunto per essere qui presente che è presidente della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi grazie 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 mille buongiorno grazie agli organizzatori grazie a tutti i presenti rinnovo il mio il mio saluto all'amico Amedeo Scarpa di ICE e all'amico Ciro Alquino di SACE con i quali spesso ci incrociamo ci vediamo e presentiamo eventi e presentazioni Dubai io vivo e lavoro a Dubai da otto anni e mezzo e come credo vedrete dalla slide ho un doppio un doppio ruolo sono quello che la chiamano l'amministratore delegato c'è il ruolo dell'amministratore delegato di una società locale che si chiama Sharap Future e sono il presidente della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi qui ho diciamo il vantaggio di avere due punti di osservazione diversi dal punto di vista dell'internazionalizzazione quello privato e quello pubblico oggi mi riferirò a quello privato in quanto per quello pubblico ci sarà in collegamento più tardi il nostro segretario generale che vi darà alcune informazioni dal punto di vista della Camera di Commercio che cosa facciamo come Camera di Commercio negli Emirati Arabi Uniti mentre invece io parlerò della parte privata in realtà per parlare di internazionalizzazione negli Emirati Arabi ci vorrebbero un paio d'ore quindi credo di avere 15 minuti e cercherò di darvi qualche spunto in modo da poter come dire far nascere quanto meno la curiosità e dare qualche informazione gli Emirati Arabi sono un paese piccolo perché siamo 10 milioni di cui siamo oramai quindi ci ho pensato adesso faccio di dire siamo comunque siamo 10 milioni di abitanti totali spesso gli Emirati Arabi si identificano con Dubai ma di fatto non solo sono Dubai sono 7 anche se Dubai è diciamo lo snodo fondamentale per quello che riguarda il business Abu Dhabi in realtà è la capitale quando si fa business negli Emirati Arabi si pensa a Dubai anche se ripeto alcune attività non si sviluppano a Dubai tutta la parte oil and gas per esempio gravita su Abu Dhabi però diciamo spesso si parla di Dubai come degli Emirati Arabi il mondo dell'export come diceva giustamente prima Amedeo Scarpa il direttore generale dice insomma 6 milioni di export nel 2022 da parte dell'Italia sono importanti sono sono un bel numero ma la cosa interessante è che siamo in crescita cioè questo è un trend di crescita quindi continuiamo a salire credetemi il Made in Italy per chi come me vive là da 8 anni e mezzo è un è un piacere vedere come sia amato ed apprezzato il Made in Italy negli Emirati Arabi quindi è vero voi penserete che là si parla del lusso e quindi quando si pensa al lusso si pensa al Made in Italy in parte è vero in parte si pensa semplicemente alla qualità si pensa semplicemente all'affidabilità dei prodotti all'affidabilità dei macchinari quindi non solo al lusso non solo alla qualità ma anche all'affidabilità gli Emirati Arabi sono in costante e continua crescita non potrebbe essere diversamente perché io dico spesso che se si fermassero morirebbero e là c'era solo il deserto oggi per chi di voi è stato a Dubai avrà visto cose che non si vedono in altre parti del mondo e che sono appoggiate sul deserto quindi sono fatemi dire obbligati costretti a continuare a crescere e lo fanno peraltro molto bene perché continuano ad attrarre investimenti uomini d'affari e business da tutto il mondo due note molto rapide come diceva prima appunto ancora Amedeo Scarpa noi siamo usciti da un expo 2020 che poi è stato fatto nel 2021 per i motivi che tutti sappiamo che tutti sappiamo siamo usciti da un expo fatto in tempi di pandemia poi pensate cosa vuol dire fare un expo in tempi di covid è stato uno sforzo incredibile che ha avuto un successo incredibile tenete presente che durante l'expo tutto il paris non c'era non ci sono stati visitatori cinesi coreani giapponesi tutta la parte paris non c'era eppure i numeri raggiunti da expo 2020 Dubai sono stati pari se non superiori a quelli di Milano 2015 che erano già numeri importanti senza una parte del mondo senza una parte del mondo questo per darvi un'idea di quello di quello che è Dubai che sono gli Emirati Arab un'altra un'altra nota che credo sia importante a Dubai quest'anno dal 30 novembre al 13 dicembre ci sarà la COP28 la COP28 per chi non lo sapesse è la COP28 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 la COP28 è la conferenza mondiale sui cambiamenti climatici che è stata fatta nel 2022 COP27 a Shah Meshach in Egitto e quest'anno sarà a Dubai che cosa significa? vuol dire che in quel periodo tutto il mondo tutto il mondo perché oggi tutto il mondo parla di cambiamenti climatici tutto sarà a Dubai già oggi ad amici ad aziende che mi dicono vorrei venire la prima settimana di dicembre io dico no non venire perché sarà impossibile trovare alberghi trovare ristoranti girare e Dubai insomma come hospitality non è seconda quasi a nessuno ma in quel periodo sarà difficile ma non era questo il tema il tema era per dire che Dubai continua ad attrarre investimenti continua ad attrarre uomini d'affari continua ad attrarre business ora che cosa fare per fare business a Dubai? fare business all'estero è una grande opportunità ma è un grande rischio lo sappiamo gli imprenditori evidentemente lo sanno in tutto il mondo in tutto il mondo negli emirati arabi gli emirati arabi non fanno eccezione è un rischio anche là e allora che cosa bisogna fare? bisogna sicuramente necessariamente appoggiarsi a strutture solide prima di tutto ICE camera di commercio quindi strutture istituzionali che diano delle garanzie istituzionali secondo avere qualcuno là che poi ci porti avanti ci porti avanti quello che noi facciamo faccio un esempio molto pratico perché l'ho vissuto sulla mia pelle prima di vivere a Dubai giravo il mondo e facevo fiere ho fatto tantissime fiere all'estero forse la maggior parte di voi ma se fai una fiera all'estero dovunque sia e porti a casa 50 contatti 100 contatti 200 contatti quando torni a casa il 98% sono persi perché fai fatica c'è poco da fare è una legge naturale quindi noi e parlo della mia iniziativa privata di Sharap Future che cosa facciamo diamo supporto alle aziende che vogliono avere una presenza commerciale sul territorio quindi essere presenti sul territorio con un ufficio a Dubai presso Sharap Future questo è quello che noi facciamo cioè andiamo sul territorio costantemente tutti i giorni a incontrare i potenziali clienti per le nostre aziende italiane avrei avuto piacere di lasciare il tempo nel mio intervento per qualche domanda ma non credo che ce la faremo io sono qua chi volesse eventualmente approfondire la cosa può farlo direttamente posso dirvi che la Sicilia con la quale noi ho visto arrivare adesso un paio di amici di un'azienda siciliana che collabora con noi ciao Francesco ben arrivato già lavoriamo con aziende siciliane come Sharap ed è un piacere immenso fatemi fare una piccola nota 50% del mio sangue è siciliano perché mio papà era nato in provincia di Siracusa quindi c'è anche un motivo particolare e personale chiusa la parente quindi già lavoriamo con aziende siciliane in Sicilia c'è tantissima capacità c'è tantissima voglia c'è tantissima voglia di andare a letto i mercati vanno scelti a seconda del prodotto non vi nascondo che più di una volta io ho detto no ad aziende non siciliane italiane in genere che erano pronte a firmare l'accordo con noi a venire negli Emirati Arabi ho detto no perché secondo me non c'era abbastanza mercato per quel tipo di aziende negli Emirati Arabi e allora meglio dire di no subito piuttosto che spendere tempo risorse soldi tutti insieme e non avere risultati quindi bisogna appoggiarsi a strutture seri purtroppo molte molte diverse aziende italiane hanno preso qualche fregatura all'estero non solo negli Emirati Arabi questo lo sappiamo qualche azienda degli Emirati ha preso anche qualche fregatura da aziende italiane o da aziende estere in generale quindi bisogna un pochino bilanciare bisogna un pochino bilanciare le cose però ecco credo che il succo del mio intervento alla fine sia questo se si vuole fare affari all'estero bisogna prima di tutto essere pronti a investire secondo negli Emirati Arabi essere pronti ad avere pazienza il nostro mercato è un mercato dove ci vuole tantissima pazienza molta di più di quella che ci vuole in altri paesi perché perché i tempi Arabi sono davvero tempi Arabi quando sono arrivato da otto anni fa pensavo fosse un modo di dire non è un modo di dire è la verità purtroppo lì inshallah è quello che succede tutti i giorni non succede oggi succede domani non succede domani succede la settimana prossima ci è capitato e ci capita regolarmente di essere contattati da aziende locali alle quali abbiamo fatto un'offerta due anni fa un anno e mezzo fa e ci contattano per dire siamo pronti a fare l'ordine spesso però non siamo pronti noi perché a quel punto i prezzi sono cambiati il mondo è cambiato e allora dobbiamo ricominciare la trattativa di nuovo spesso l'operazione si chiude comunque perché a quel punto il cliente è pronto a farla però questi sono i fatti questo è quello che succede là gli Emirati Arabi non sono un mercato facile sono un mercato difficile perché? perché negli Emirati Arabi c'è tanto business e dove c'è tanto business c'è tanta concorrenza c'è tutto il mondo là quindi noi dobbiamo confrontarci con tutto il mondo ma noi abbiamo dei vantaggi grandi enormi il made in Italy e qui per chiudere il mio intervento spendo invece due parole dal punto di vista istituzionale della Camera di Commercio perché sono reddice ieri è terminata nelle Marche la convention mondiale di Assocamere cioè quattro giorni dove ci siamo trovati i presidenti e i segretari generali di tutte le Camere di Commercio italiane all'estero siamo 84 le Camere di Commercio italiane all'estero ecco quello che è stato discusso lì alla presenza anche di alcuni deputati e senatori è stato un passaggio importante voi tutti sapete che nell'avvento del nuovo governo del governo Meloni il nome di un ministero il ministero del gruppo estero è cambiato oggi si chiama Ministero del Made in Italy e sembra una sciocchetta io non ho mai creduto molto francamente al nome al cambio di nome dei ministeri ma in questo caso devo dire il ministero del Made in Italy sta dando una spinta importante ma perché il Made in Italy è il Made in Italy e dovunque tu lo porti nel mondo rimane il Made in Italy quindi siamo supportati dalle istituzioni siamo supportati dal governo siamo supportati dall'ambasciata dal consolato dalice da Sace siamo una squadra siamo una squadra e abbiamo la possibilità di fare bene vorrei chiudere però aggiungendo una cosa poi per chi vuole ripeto sarò a disposizione per qualche chiarimento che non riesco a dare nel mio intervento noi oggi parliamo di internazionalizzazione nel senso di andare all'estero di esportare i nostri e i vostri prodotti e va benissimo ma non dimentichiamo anche un'altra strada quella di far venire qua investimenti esteri e guardate c'è un enorme potenziale c'è un enorme potenziale negli Emirati Arabi per portare qua investimenti dall'estero vi chiudo con un con un esempio pratico che è di venti giorni fa sono stato contattato da un grosso gruppo locale un grosso gruppo di real estate quindi che è un developer un gruppo che costruisce il quale mi ha detto guarda noi qui facciamo quelli che loro chiamano compound i compound sono dei piccoli quartieri villaggi dove loro costruiscono 100 200 300 ville in mezzo ci mettono un bel laghetto ci mettono un supermercato ci mettono una moschea ci mettono dei ristoranti e la gente vive dentro Dubai naturalmente siamo all'interno di Dubai e la gente vive in questo compound sono posti bellissimi io ne conosco diversi a Dubai di questi compound la richiesta che mi è stata fatta è stata questa noi vorremmo fare una cosa del genere in Italia cosa vuol dire? vuol dire che questi signori sono pronti a investire decine forse centinaia di milioni di euro per realizzare un compound di 100 200 500 è solo una questione di spazio è solo una questione di area 500 ville in Italia perché? perché la loro clientela che oggi lasciatemelo dire è fatta fondamentalmente da russi e dai miragini vuole comprare queste ville in Italia quindi e chiudo per quello che riguarda l'internazionalizzazione siete i benvenuti là c'è tantissimo tantissimo da fare come qualcuno ha detto prima credo il dottor Salerno in quasi tutti in quasi tutti quindi davvero la strada è aperta appoggiatevi a strutture serie collaudate e e oramai presenti sul territorio ma non dimentichiamo anche la strada la strada inversa che è quella di portare qua investimenti dalla capitale all'Italia che tutto sommato credo non farebbe dispiacere io sono qua per tutti quelli che vogliono poi avere qualche ulteriore grazie di nuovo agli organizzatori grazie Luizio grazie a tutti voi grazie per il suo prezioso intervento molto equilibrato è chiaro che appunto la prudenza deve dominare nel in queste nelle operazioni di internazionalizzazione perché ci sono opportunità ma anche grossi rischi quindi il paio da te è assolutamente escluso e appunto come diceva l'ingegnere bisogna assolutamente appoggiarsi alle istituzioni che già sono presenti sui mercati ma appunto la Camera di Commercio la Sace la Ice e tutte le varie organizzazioni che supportano le imprese italiane nell'internazionalizzazione e a questo punto passerei la parola sempre da remoto a Simest rappresentata dalla Senior External Relationship Manager e la dottoressa Gabriella Severi Buonasera a tutti mi sentite? Sì grazie dottoressa Tutto a posto? Ok Bene Grazie anche io ringrazio dell'invito mi dispiace moltissimo di non essere presente ma spero che sarà per un'altra volta e molto presto presento quello che noi come Simest possiamo fare per aiutare le imprese italiane in particolare siciliane in questo caso ad andare all'estero e a internazionalizzare presento ho delle slide da presentare vediamo se ci riesco si attiva un po' vedete? vedete le slide? mi sentite? mi sentite? Bene grazie mi sentite? Sì la sentiamo sì grazie dottoressa Perfetto allora mi rappresento Simest che è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti siamo controllati dall'invito dell'economia e delle finanze ma facciamo capo al ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale insieme anche a AITA o ICE dir si voglia abbiamo cerco di essere veloce abbiamo tre gamme gamme di strumenti i prestiti partecipativi finanziamenti agevolati e il supporto all'export che andrò a spiegare operiamo attraverso sia risorse proprie i prestiti partecipativi sia gestendo due fondi pubblici il fondo 394 e 295 così chiamati ovviamente dalla legge che li ha istituiti perché perché simest perché simest ecco qua perché abbiamo oltre 30 anni di esperienza a supportare i processi di internazionalizzazione abbiamo sostenuto importanti gruppi italiani nelle fasi di sviluppo e di consolidamento perché partiamo dall'aiuto ad esempio a partecipare a una fiera e mostra fino addirittura a costituire una società all'estero e siamo anche membri di etfi quindi partner di istituzioni finanziarie multilaterali e aiutiamo ad accedere a geografie compresse siamo anche partner di medio e lungo termine e abbiamo dei benefici che ci derivano proprio dalla gestione di questi fondi pubblici questi sono un po' i nostri numeri questi sono diciamo i luoghi dove abbiamo aiutato ad andare le imprese italiane con i numeri prestito partecipativo promuoviamo praticamente l'insegnamento di imprese italiane all'estero sia sui mercati UE sia sui mercati extra UE e tramite l'acquisizione di una partecipazione nel capitale della società estera lo facciamo con risorse nostre partecipiamo con un orizzonte temporale di massimo 6-8 anni con un prezzo di uscita predeterminata e alcune volte partecipiamo in aggiunta anche con il fondo di venture capital gestito sempre da Simest e a condizioni economiche però promozionali per l'extra se si va extra UE se si costituisce una società extra UE c'è anche un'agevolazione sul finanziamento che la società italiana chiede ad una banca questa è la struttura dell'intervento imprese italiane partner imprese target estera partecipazione Simest o partecipazione del fondo venture capital siamo un partner istituzionale quindi diciamo che all'estero appariamo come lo stato italiano non entriamo non si entra nella centrale rischi abbiamo una limitata ingerenza nella governance cioè lasciamo che sia l'imprenditore italiano a gestire la società estera abbiamo un tasso di remunerazione predeterminato poi l'altro invece quello che posso dire invece sono i numeri di queste partecipativi abbiamo in essere tre partecipazioni negli Emirati Arabi e quella diciamo che voglio far notare è la partecipazione della Montalbano che è una società di Palermo leader nella produzione di impianti per lo smaltimento e il riciclamento dei rifiuti e abbiamo siamo entrati in una nuova impresa emiratina con il 49% questa questa impresa ha sede nella zona industriale di Saif e siamo intervenuti con un importo di 490.000 euro e sosterremo così l'attuazione del piano di espansione di questa azienda siciliana negli Emirati Arabi dove ritengono molto importanti come già aveva detto anche prima la sostenibilità ambientale e lo smaltimento dei rifiuti questo per quello che riguarda i prestiti partecipativi per quello che riguarda invece i finanziamenti agevolati noi gestiamo il fondo rotativo 394 ed eroghiamo quindi per conto del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei finanziamenti agevolati finalizzati però all'internazionalizzazione delle imprese quello che potrà interessare più di tutti le società italiane e le società siciliane sarà i finanziamenti agevolati per l'internazionale che apriranno speriamo di qui veramente a poco prima della chiusura estiva saranno destinate a tutte le imprese italiane con focus sulle TMI per esplorare nuovi mercati o anche per consolidare la propria presenza nei mercati per cui avremo un finanziamento agevolato per partecipare a fiere internazionali che diciamo il primo step per andare all'estero oppure la creazione di una piattaforma e-commerce poi per andare avanti con l'apertura invece di una struttura commerciale in questo caso negli Emirati Arabi comunque all'estero poi anche avremo un finanziamento agevolato per lo sviluppo digitale sostenibile della società italiana perché è passato diciamo il concetto che se una società italiana ha fatto uno sviluppo digitale sostenibile ed è più competitiva in Italia se lo sarà anche all'estero e anche un finanziamento agevolato per l'inserimento di un temporary manager che possa aiutare la società ad andare all'estero quindi praticamente a evidenziare il paese diciamo la merce da esportare eccetera poi questo è quello che stiamo facendo in questo momento abbiamo due finanziamenti agevolati e invece qui lo sportello è aperto rimane aperto fino al 31 ottobre stiamo usando alcune risorse del fondo 394 per aiutare le imprese esportatrici colpite dalla crisi della guerra ucraina e poi abbiamo invece nel 2021 il fondo questo fondo 394 è stato finanziato con le risorse europee del PNRR per supportare i processi di transizione digitale e green delle nostre imprese cioè era stato dato un miliardo e due abbiamo speso tutto e anzi abbiamo avuto anche un eccesso rispetto alle risorse messe a disposizione e che stiamo adesso accogliendo con le risorse ordinarie del fondo 394 questi sono i finanziamenti agevolati in particolare se ci fosse ovviamente queste slide restano a disposizione possono essere date alle imprese o ai presenti e se ci fosse qualcuno interessato c'è diciamo qua presentato ci sono qua presentati i due finanziamenti agevolati a sestegno e delle imprese esportatrici che abbiano avuto un calo a una perdita di fatturato estero nei paesi Ucraina Federazione Russa e Bielorussia oppure un finanziamento agevolato per le imprese esportatrici che si approvvigionavano da questi tre paesi e che abbiano avuto a causa della guerra o un calo di approvvigionamenti o un aumento dei prezzi degli approvvigionamenti stessi questi sono addirittura poi i particolari a chi è dedicato dei due finanziamenti a chi è dedicato PMI e Midcap i requisiti di accesso gli importi finanziabili gli incentivi e il diciamo e il fondo perduto perché praticamente oltre ad essere un finanziamento a tasso agevolato trattandosi ovviamente di un intervento in caso di una crisi c'era una quota fino al 40% c'è scusate di fondo perduto e questo invece è il diciamo tutti i requisiti necessari invece per l'altro che sono praticamente il sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucrania e Federazione Russa i requisiti di accesso sono gli stessi però bisogna dimostrare di essersi approvvigionati per un triennio presso questi tre paesi ed ora nel 2022 avere avuto un calo di questi approvvigionamenti o un aumento del prezzo a causa della guerra anche qui c'è un importo finanziabile e invece un importo a fondo perduto che può arrivare fino al 40% l'ultima nostro diciamo gamma di strumenti è il supporto al credito export questo è praticamente lo facciamo con la gestione del fondo 295 e praticamente è un intervento a supporto dei tassi di interessi di finanziamento a medio e lungo termine però solo per l'esportazione di beni e servizi di investimento quindi macchinari impianti e collaterali cioè tutte le cose e servizi legati all'esportazione di macchinari e impianti cioè e diamo un contributo a fondo perduto praticamente credito fornitore diamo un contributo a fondo perduto per per far sì che l'impresa italiana possa concedere all'acquirente estero una dilazione di pagamento superiore a 24 mesi a un tasso di di a un tasso contrattuale abbastanza basso pari diciamo al CIR poi ovviamente questi l'acquirente estero emette delle cambiali tra atte e lettere di credito l'esportatore italiano non se le tiene in pancia ma le va va presso un istituto scontante che è che è sconta questi titoli a subito diciamo il suo il pagamento a quel punto per lui diventa immediato e diciamo però l'istituto scontante gli fa pagare un tasso più alto e noi andiamo diciamo a coprire la differenza tra il tasso che l'imprenditore italiana paga all'istituto scontante e quello più basso che viene pagato nel contratto commerciale dall'acquirente estero e questo lo facciamo con la gestione del fondo 295 queste sono tutte le caratteristiche tutte le particolarità a cui non vi sto ovviamente abbiamo una dilazione di pagamento competitiva un tasso fisso ed eroghiamo questo contributo a fondo perduto in un'unica soluzione questi sono i numeri non è riportato in non è riportato il mio nominativo io sono responsabile delle scusate senior relations esterne mi chiamo Gabriella Severi poi comunque gli organizzatori avranno anche il mio riferimento questi invece sono il riferimento delle persone che sono sul territorio la dottoressa Maria Teresa Cardinale che è presente in sala è la persona di Simest presso l'ufficio di Palermo ovviamente che è disponibile per tutti i seguiti operativi con le imprese Sicilia con le imprese di Sicilia Calabria e Sardegna che potrà essere di grande aiuto e se ci sono ovviamente domande eccetera potete tranquillamente farle a lei e lei è sul territorio abbiamo avuto ovviamente parto parto e do eccomi qua di nuovo eccomi qua do altri numeri sugli Emirati Arabi abbiamo concesso al 31 maggio 2023 negli ultimo biegno 363 finanziamenti agevolati verso gli Emirati Arabi fra inserimenti mercati studi di fattibilità partecipazione a fiere ed e-commerce di cui 7 in Sicilia anche finanziamenti PNRR abbiamo concesso 77 finanziamenti agevolati numero di operazioni per 5 milioni di cui 4 in Sicilia tutti alla fiera e sicuramente sarà per la partecipazione all'Expo Dubai abbiamo anche già concesso 11 operazioni di export per 100 milioni per l'esportazione di macchinari e impianti verso gli Emirati spero di essere stata chiara abbastanza coincisa resto a disposizione ma soprattutto resta se ci sono domande sono qui e comunque resta a disposizione la mia collega Maria Teresa Cardinale dottoressa la ringraziamo per il suo intervento Simest appunto resta una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti fondamentale appunto come tutte le altre per l'internazionalizzazione delle imprese italiane per il supporto appunto finanziario che da e anche ho visto per guida le aziende fin dall'inizio anche con capitale diciamo venture capital ci sono anche situazioni in cui li accompagna con quote di partecipazione minoritarie però diciamo li supporta anche dal punto di vista diciamo delle quote sì sì perfetto infatti quindi ringraziamo per il lavoro e chiaramente saremo sempre in contatto con i vostri contatti appunto per l'internazionalizzazione delle imprese siciliane grazie dottoressa io vi saluto resto comunque a disposizione per seguiti con la mia mail qualsiasi cosa e spero di poter partecipare in presenza ad altre attività mi dicevano qua tecnicamente di interrompere la condivisione dello schermo subito grazie sono stata ho eseguito ok allora adesso passo la parola un saluto affettuoso al nostro dottore Giuseppe Giarlotta che è presidente della commissione internazionalizzazione dell'ordine dei commercialisti di Catania a cui do la parola per tratterà il tema il ruolo del dottore commercialista nella internazionalizzazione delle imprese negli Emirati Arabi prego dottor come qua combinato così posso leggere no buon pomeriggio a tutti io sono Giarlotta Giuseppe e dovrò relazionare oggi sul ruolo del dottore commercialista dell'internazionalizzazione delle imprese italiane negli Emirati Arabi uniti gli Emirati sono membri di tutte le principali organizzazioni internazionali e svolgono un ruolo particolarmente attivo nel consiglio di concertazione del Golfo e inoltre sono un importante interlocutore delle emittenti dell'area medio orientale nelle baristreti e sono in stretto alleati con gli Stati Uniti d'America gli Emirati sono composti di sette come sappiamo di sette Emirati il più importante sono Abu Dhabi Dubai e Sharia la capitale è sede dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili e gli Emirati Arabi intrattengono ottimi rapporti con i paesi occidentali e anche ovviamente con l'Italia i rapporti bilaterali con il nostro da paese sono sensibilmente aumentati negli ultimi anni e rappresentano una solida base e molto attiva per quanto riguarda l'area Mena fuori e Nord Africa particolarmente profondi sono gli rapporti con l'Egitto e l'Arabia Saudita mentre restano tessi quelle con il vicino Iran Gli Emirati Arabi Uniti grazie a strutture importanti efficienti del sistema lavoro della solidità finanziaria e della favorevole imposizione fiscale e anche al basso costo della mano d'opera rimangono un luogo di primordine per sviluppare strategie di business prima di parlare ed esaminare gli investimenti negli erminati Arabi Uniti è importante segnalare la normativa importo esporto relativa alle AU e parlare anche dell'interscambio commerciale fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti il sistema dopanale degli Emirati Arabi è molto efficiente sia dal punto di vista organizzativo che con riferimento alle modalità tempistiche dell'operazione il sistema dopanale è costituito da una struttura di vertice dell'autorità dopanale federale e dell'autorità dopanale dei singoli Emirati gli Emirati unitamente dell'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita l'Arabia Qatar costituiscono la zona di libero scambio denominata Golfo Cooperation Concilio L'accordo che c'è fra questo GCC prevede un tazio principale sul ad valorem del 5% che viene applicato in via generale al valore CIF delle merce importate l'accordo prevede una lista di beni esentati dal tazio all'importazione fra i suddetti che affigurano fra gli altri alcune igiene alimentari verdura fresca frutta e cereale medicinali e apparecchiature medicinali libri e riviste nonché navi ed aeromobile commerciali esistono categorie di beni la cui importazione è esentata da qualsiasi attributo beni la cui importazione è controllata e beni dell'importazione nel territorio che sono vietati alcuni beni dell'importazione è limitata appartengono alla voce doganale ma relativa a igiene alimentare con riferimento in particolare alla carne di maiale e alle uova le merci importate nelle zone franche sono soggette a diritti non sono ma soggette a diritti doganali esse saranno assoggettate al tributo previste dalla normativa ccc solo in ipotesi di importazione dalle suddette zone al territorio interno l'imposta sul valore aggiunto l'iva è stata introdotta il primo gennaio 2018 al tasso del 5% sul valore delle merci con alcune limitate eccezioni tra cui l'assistenza sanitaria e l'istruzione tassate allo 0% mentre i trasporti locali di passeggeri l'acquisto di immobili ad uso residenziale però in determinate circostanze l'acquisto di materrene e alcuni servizi finanziari sono esenti il problema rappresentato dal sistema delle licenze deficienti negli Emirati Arabuniti costituisce un aspetto importante per gli operatori interessati ad entrare in questo mercato le principali tipologie di licenza sono quattro licenze commerciali necessarie per importare esportare e rendere e vendere e distribuire la licenza industriale necessaria per importare materie prime ed esportare il prodotto finito e la licenza di servizi necessarie per fluire di servizi nelle zone franche c'è anche la licenza professionale che proprio che serve per i commercialisti avvocati architetti eccetera settori in cui investire negli Emirati Arabuniti i settori di interessi per gli operatori stranieri sono notevoli energie e petrolio edilizia immobiliare arredamente tessile turismo trasporti e infrastrutture gioelleria e cosmetici alimentari e ristorazione tecnologia commercio e anche il cosiddetto made in Italy nella scelta del settore in cui intervenire l'ausilio del dottore commercialista quale consulente di impresa è fondamentale in quanto fra l'altro ma conosce la struttura operativa dell'azienda italiana che già assiste come investire negli Emirati Arabuniti l'operativo straniero può investire creando una società in loco o partecipando una società già esistente si può creare anche una zona una società in zona franca il dottore commercialista quale consulente di impresa deve pertanto conoscere bene la normativa societaria e fiscale esistente negli Emirati Arabuniti che in sintesi passiamo ad esaminare sarà il dottore palanga ad essere più preciso in verito perché ha proprio uno specifico ma avrà una specifica relazione da fare a tal proposito la disciplina societaria dei amministratori appuniti contenuta nel commercial company law a seguito della legge federale numero due del 2015 trattandosi di legge federale troverà applicazione in tutto il territorio della federazione la società tale legge non opera nelle società costituite nelle zone franche le tipologie nelle quali devono obbligatoriamente costituirsi le società sono stabilite dalla norma appena di nullità le società di capitale previste sono quattro fabbric joint stock company una forma societaria simile alla nostra società per l'azione codata in borsa la private joint company simile alla nostra società per l'azione ma parte nel limite di scelse assimilabile alla nostra società in accomanti da operazione e la limite di liability company che caratterizzata da una grande flessibilità ed economicità è la forma più applicabile per gli investitori stranieri nel quadro di questa legge sulle società commerciale è previsto che gli investitori stranieri possono tenere al massimo fino al 49% del capitale sociale di una società registrata nelle EAU questo originariamente poi ci sono stati dei cambiamenti l'unica alternativa possibile al fine di ottenere una partecipazione di maggioranza è quella di adottare uno investimento in una zona franca nel settembre 2020 viene approvato un nuovo decreto legge 26 2020 che apporta significative modifiche all'originaria legge sulle società commerciali appunto numero 2 del 2015 viene prevista fra l'altro la possibilità per gli investitori stranieri di tenere fino al 100% del capitale sociale di società che svolgono l'attività nei seguenti settori attività professionale scientifiche tecniche nonché servizi amministrativi servizi di supporto attività educative assistenza ma sanitaria arte e intrattenimento e costruzione il governo degli Emirati Uniti prevede una lista di settori considerati strategici petrolio a gas servizi di pubblicità di pubblicità e telecomunicazione in cui permarrà il divieto in capo all'investitore straniero di detenere una quota di maggioranza nel capitale ma sociale il territorio legge è entrato in a vigore in data 2 gennaio 2021 esistono anche le zone speciali economiche speciali gli operatori straniere oltre a poter partecipare in una delle società di capitale già esaminate hanno la possibilità di investire in zone franche a totale capitale straniero data la posizione strategica tra l'Europa e l'Asia gli Emirati Aro-Uniti hanno creato le zone speciali free trade zone per incindivare l'insediamento produttivo e commerciale nel territorio le zone franche sono conviutamente equipaggiate con tutte le strutture comport e infrastrutture di comunicazione ogni zona franca è specializzata nell'offerta di una varietà di servizi logistici e finanziari dei diversi settori di attività le società con licenze per il commercio o industria possono operare a fare solo all'interno delle zone speciali o con l'estero per poter vendere i propri prodotti all'interno degli Emirati queste società devono appoggiarsi ad un agente ufficiale degli Emirati Aro-Uniti quando una società è autorizzata ad operare in una zona economica speciale perché occorre l'autorizzazione viene lasciata una licenza delle free zone authority oltre alla libertà di poter costituire una società a totale capitale straniero le società che operano nelle zone franche usufruiscono di notevole vantaggi esenzione delle tasse di importazione su materie prime e attrezzature nessuna tassazione sull'importazione e esportazione di prodotti finiti nessuna imposta sui redditi societari per 15 anni rinnovabile per ulteriore 15 anni ovviamente questa norma ora è stata un pochettino cambiata ma le basi sono state queste sicuramente il dottore Falanga mi sarebbe essere più preciso attualmente le zone franche sono 45 di cui 27 operanti a Dubai parlando delle imposte sulle società non esiste al momento negli emirati aree per alcuna tassazione sul reddito a livello federale la maggioranza degli emirati che costituiscono l'unione hanno invece al loro interno disposizioni che prevedono l'applicazione di tasse sul reddito a livello statale dalle disposizioni prevedono l'imposta dei redditi derivanti da attività imprettonare sborti in loco che può arrivare in via proporzionale fino al 55% ciò è previsto ad Abu Dhabi a Dubai e Sharaya dove le società sono mantenute a corrispondere tributi in funzione del loro reddito in base percentuale progressiva nei fatti però le società attive nel settore petrolchimico e gasiero e le branche delle banche straniere sono effettivamente assoggettate ai tributi le filiali di banche possono essere invece essere soggettate ad imposta sul reddito del 20% negli Emirati che lo prevedono il 31 gennaio 2023 il ministero delle finanze emiratino ha annunciato però l'introduzione dell'imposta federale sui redditi societari con efficacia negli esercizi iniziati il primo giugno 2023 e successivamente stante quanto annunciato a partire da giugno 2013 l'imposta federale sul reddito della società avrà le seguenti quote 0% per gli utili imponibili fino a ed 375 mila pari ad euro 95 e 300 circa sarà applicato il 9% oltre tale importo oltre cioè a ed 375 mila una diversa disciplina per le grandi sede multisazionale sarà nucleata e in usare sensione per le sede centrali grande app di investimento internazionale avendo sede negli emirati attualmente il cambio il 4 giugno 2023 è un euro vale a 393 a e di è importante prima di parlare della convenzione contro la doppia imposizione dell'Italia con gli emirati in vigore dal 21 gennaio 1995 come previsto ebbene richiamare l'attenzione su due cose importanti le cose importanti è innanzitutto gli investimenti commerciali 2022 con l'EU esposta in valore istante in milioni di euro le esportazioni 20 dell'Italia abbondavano a 3 miliardi 860 di cui in Sicilia 30 virgola 4 le esportazioni dell'anno 2021 ammontano in base ai valori istante a 4 miliardi 814 mila euro e in Italia praticamente nel rapporto 21 e 22 c'è stato un notevole incremento del 25 virgola 2 per cento complessivo dal prospetto che si legge non non è come eh va beh c'è c'è un aumento del 70 9 virgola 5 per cento del no del 25 virgola 2 per cento altro momento è avvenuto nel 2022 che si è passati dalle nere per l'esportazione dell'Italia a 6 miliardi 0 29 mila ovviamente in questo prospetto che purtroppo la macchina non ha preso bene sono evidenziati anche i dati relativi alla Sicilia nella nostra Sicilia la nostra Sicilia e le esportazioni del 2020 ammontano a 30 milioni di euro in Sicilia nel 21 ammontano a 79 mila euro circa e nel 72 ammontano nel 2022 ammontano a circa 28 7 è interessante vedere da questa analisi particolare dell'inzio del scambio commerciale per dagli anni 20 e 22 con l'euro i settori principali oggetto di questa esportazione bene in funzione dei valori al 31 dicembre 2022 sono prima di tutto la gioielleria e le piedre preziose a secondo macchinari ed apparecchiature al terzo avvigliamento e articoli in pelle poi ci sono prodotti chimici prodotti della metallurgia apparecchiature elettriche autoveicoli computer prodotti alimentari mobili a farmaceutici eccetera ovviamente questi questi qua singolarmente hanno subito delle variazioni notevoli significa le esportazioni verso i paesi degli emirati aree dell'italia verso l'amerate sono largamente aumentate tale oggi da rappresentare un importante veicolo di esportazione in funzione di questi elementi principali che avviene stiamo parlando di internazionalizzazione ma parliamo anche di interscambio commerciale avvenuto nel periodo 20 22 le importazioni ovviamente fra le inquattazioni abbiamo quello della metallurgia i prodotti di raffinazione petrolio il patroio greggio il patroio di azione greggio che è avvenuto nel 2022 nella zona del Messinese alla raffineria di Milazzo è stato di 243 mila 243 milioni di euro però quello che è importante capire che la gioielleria ha avuto anche per contro oltre a quello dell'esportazione quella di rinversione un certo peso però principalmente parliamo del petrolio greggio importante e poi dobbiamo chiudere perché abbiamo gli altri 5 minuti ancora e poi dobbiamo chiudere perché abbiamo altri interventi grazie va bene passando brevemente ora e rientrando nei simili parliamo innanzitutto della normativa societaria esistente le ultime novità non sono tante chiare su quello che attualmente sta avvenendo trattandosi di legge federale troverà applicazione in tutto il territorio della federazione la normativa societaria prevista dalla legge federale numero 2 del 2015 dalle leggi non è operativa nelle società costituite in zone franche la tipologia delle quali devono essere strettamente ristrutturate e l'imposta sarà appena di nullità si verserà si possono costituire le società che sono principalmente quattro le società stock company perché è simile alle società istituite nella nostra società per 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 quotate in borsa le private company joint grazie pressoché simile alla nostra società per azione la partnership limited shares rapportabile alla nostra società in comanda da per azione e la limited company che caratterizza una grande flessibilità economicità ed è praticamente la forma principale per gli investitori stranieri nel quadro di questa legge nelle società commerciali è previsto per gli investitori stranieri che possono mantenere un massimo di 49 euro del capitale società nelle società registrate negli Emirati Arepi l'unica alternativa possibile è quella di avere una partecipazione di maggioranza e quella di adottare un investimento nella zona franca questa qua è una faccenda che si vedrà dopo però anche qua c'è una novità che nel settembre 2000 ambiente viene approvato un decreto legge del 26 del 2020 che supporta significativi motivi che all'originaria legge sulla società commerciale numero 2 del 2015 viene prevista tra l'altro la possibilità di investire di investimenti straniere di decorrere fino al 100% del capitale sociale che svolgono l'attività l'attività in particolare settore come quello l'attività professionale scientifica nonché servizi amministrativi servizi di supporto attività educative assistenza ma sanitaria eccetera il governo dei di emirate prevede una lista di settori considerati strategici quale per esempio quello di radio al petrolio e gas ai servizi di pubblicità di pubblicità e e e e a e a territori e a telecomunicazione che per merrà il divieto incarico a investitore straniero di detenere una quota di maggioranza allora grazie al dottore giallotto un applauso veramente è stato il resto della relazione magari lo metteremo sul sito dell'ordine evidentemente e quindi è stato veramente chiarissimo come sempre il dottore giallotta lo ringraziamo per il suo intervento grazie allora abbiamo adesso il dottore luigi falanga dottore commercialista organizzatore del convegno che ci parlerà invece del sistema giuridico e fiscale negli ammiratiari per aver organizzato questo convegno ringrazio voi tutti che siete intervenuti ringrazio i relatori che ci sono sono tanti che hanno aderito all'invito a partecipare a dare il proprio contributo ognuno con la sua materia a questo a questo evento di formazione e di informazione è chiaro che in una mezza giornata come ha detto Stefano non riusciamo a dare un panorama completo ed esaustivo di quello che sono gli emirati aree più unite però ognuno con la con la propria competenza stiamo cercando comunque di darvi informazioni su quello che è il panorama degli emirati degli emirati aree più unite e qualcun altro ha detto che gli emirati sono un paese che dà grandi opportunità però ecco non è un Eldorado questo ci tengo a dirlo perché comunque è un paese a quanto attrattivo e tutto il mondo ovviamente ha voglia di starci e quindi diventa estremamente competitivo il livello di competizione è elevatissimo quindi è un paese dove ci sono tante opportunità ma non per tutti è opportuno rendersene conto bisogna dare quelle bisogna offrire in questi mercati quello che noi siamo più bravi ad offrire Made in Italy sicuramente questa un'unicità che noi abbiamo e tutti quegli altri settori dove possiamo sicuramente esprimere al meglio esprimerci al meglio tenendo conto ecco solo per darvi un'idea la comunità degli italiani iscritta all'aere negli UEI sono 14 mila circa i cinesi sono 350 mila ecco per darvi un'idea di quello che è il rapporto convivono 200 nazionalità diverse in questo paese e ognuno ognuno di ogni 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 individuo di questa nazionalità ovviamente offre quello che può offrire al meglio che può essere una concorrenzialità di prezzo una concorrenzialità anche di come dire di facilità nel così come i cinesi nelle costa che sono in gas sono insuperabili perché sono quelli che costano meno e sono quelli che finiscono il lavoro più in fretta di tutti perché lavorano più di quanto siamo abituati noi a lavorare però voglio comunque adesso non voglio scoraggiarvi ma voglio trasmettervi anche positività che è un po' la parola d'ordine degli UEI è il primo paese al mondo che ha istituito il ministero dell'Eppiness e della Positività quindi happiness intesa appunto come soddisfazione e il grado di soddisfazione sia dei residenti che dei visitatori vi assicuro che è molto alto proprio perché è un paese che ha attratto i migliori talenti al mondo con una popolazione a quanto con un'età media alquanto giovane per certi versi fa anche rabbia vedere tanti giovani per primo mio figlio che vive da sette anni negli Emirati fa rabbia vedere tanti talenti che noi abbiamo regalato a questo paese però le condizioni e le opportunità che questi ragazzi hanno trovato negli Emirati non li avrebbero trovati sicuramente in Italia e quindi a noi hanno fatto bene ad andarsene e trovare ovviamente la loro strada in questo paese che ha offerto loro la possibilità di realizzare e detto questo vorrei appunto cercare in pochi minuti perché il mio presento ho mi concede di dare quella che è una panoramica un po' dalla struttura giuridica e anche fiscale degli Emirati Arabi qualcuno ha già accennato gli Emirati Arabi sono una federazione di Emirati sono sette gli Emirati che fanno parte di questi Emirati Arabi Uniti costituiti nel 1971 gli Emirati in quel golfo sono sono anche di più ma non tutti hanno aderito e la stessa Rarsal Kema che è il settimo Emirato ha aderito nel 72 quindi non nel 71 quando si sono costituiti la la loro struttura è una una federazione di monarchie sono sette appunto le è una monarchia assoluta dove esiste un emiro e ci sono due livelli di vista giuridico due livelli uno federale quindi con delle norme federali e l'altro invece ci sono delle materie che possono essere ovviamente adattate nel 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 singolo Emirato Abu Dhabi è sicuramente l'Emirato più importante perché è il più esteso da un modo di vista fisico e anche più ricco nonostante comunque Dubai è quello che da un punto di vista economico ha una vivacità che non ha pari non solo negli altri Emirati neanche nel Saud Arabia che essendo il paese oggi il più emergente dell'area del Golfo è quello probabilmente il paese più ricco al mondo quindi ha una capacità di spesa notevolissima ben più alta di quella di Abu Dhabi che già è elevatissima ma che guarda dal modello di Dubai proprio per emanciparsi per espandersi per evolversi e quindi Dubai comunque è un modello è un modello che viene imitato in tutta l'area del Golfo e è un hub di fatti il 70% della merce che viene a Dubai poi viene riesportata vi racconto questa solo per rendersi conto per rendersi conto di quanto sia importante questo luogo da un punto di vista logistico quando hanno realizzato il porto di Gebelali il porto vecchio era 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 diciamo semi vuoto o semi pieno come lo vogliamo chiamare insomma comunque non era assolutamente sfruttato al massimo quindi tutti pensavano che quell'operazione della costruzione di un porto nuovo fosse un'operazione sbagliata si guardava avanti facendo un passo più alto più lungo probabilmente delle proprie campi oggi il porto Rashid quindi non solo il porto vecchio ma anche il porto di Gebelali è pieno è diventato il porto più che ha una movimentazione più alta nel mondo e l'autority che gestisce i due porti gestisce altri 70 porti nel mondo quindi acquisendo il don't know-how che ovviamente gli ha permesso e gli permette di vendere questa competenza in giro per il mondo e questo per dire così come Hamburgo in Europa è il porto più importante d'Europa anche gli inglesi in portanto le merci passano ad Hamburgo perché al di là del porto al di là delle strutture portuali quello che poi è importante sono tutti quei servizi che ci stanno dietro dietro il porto questa probabilmente è la regione per cui il porto di Gioia e Tauro non è mai decollato perché oltre a Gioia e Tauro purtroppo non c'è nulla o c'è poco questo è il ecco dicevamo gli Emirati Arabi sono stati costituiti nel 71 hanno fatto 50 anni nel 2002 hanno festeggiato 50 anni nel 2021 e dal deserto in pochi anni sono riusciti a diventare una delle economie più competitive alternative al mondo e la quarta economia dopo il Capore Hong Kong e gli Stati Uniti e la Svizzera e solo per dare un'idea l'Italia si trova al 44esimo posto ai nord proprio perché sono stati brevittimi come dicevo ad attrare i migliori talenti del mondo offrendo loro non solo opportunità di crescita professionale ma offrendo una qualità della vita che chi non è stato a Dubai non può neanche immaginare quindi offrendo dei livelli di una lifestyle che abitua e ovviamente trattiene questi ragazzi a rimanere a rimanere a Dubai perché ovviamente le condizioni di vita che si trovano a Dubai non li troverebbero da nessun'altra parte del mondo incrociando come dicevo poi alla fine un po' realizzando quello che poi alla fine è una sorta di circolo virtuoso perché ovviamente 200 nazionalità diverse che convivono insieme scambiano idee informazioni progetti e quindi creando quello che è alla fine un tessuto un terreno fertile per lo sviluppo per la realizzazione di qualsiasi ovviamente opportunità quindi dicevamo le infrastrutture come il porto l'aeroporto noi abbiamo o l'aeroporto di Dubai è uno è intanto connesso con tutto il mondo non c'è città al mondo che non è connessa con Dubai l'Italia ha dei collegamenti che vanno da Catania attraverso tra i Dubai che è la nostra città di Emirates e Witsair che collega con Abu Dhabi ma c'è Milano c'è Roma c'è Bologna quindi molte città italiane ma ripeto da tutto il mondo sono connesse con Dubai creando poi a latine un hub come dicevo prima che non è solo Dubai Dubai rappresenta l'hub di quella che è ormai un'area considerata del Menasa quindi del Medio Oriente del Nord Africa e dell'Asia Minore è un'area che nei prossimi anni conta uno sviluppo demografico tra il 60 e l'80% per cui un paese che a bocce ferme ha un incremento della domanda per via dell'incremento della popolazione tra il 60 e l'80% contro un decremento ai noi demografico che avremo in Europa e in primis in Italia questo ecco solo per darvi l'idea di quello che è il porto di Gebelali e le strutture che ovviamente è la più connessa al mondo al Wasle che è il vecchio nome di Dubai significa proprio connessione e proprio l'altro giorno leggevo che Dubai è la prima città al mondo più connessa con internet cioè il 97% rotti della popolazione si connette con internet è l'indice più alto di connessione con internet al mondo l'Italia insomma per quanto sia abbastanza alto comunque siamo all'80% circa se non ricordo ma perché ecco come dicevo prima quel livello medio di età della popolazione di Dubai è quella più smart è quella più ovviamente connessa anche con l'Italia Luigi scusa fammi dire che però non solo i giovani poi si fermano a Dubai non solo i giovani sì noi siamo la testimonianza che è anche così però l'età media l'età media noi la facciamo però l'età media dobbiamo ammettere che è molto giovane questo è appunto come dicevo prima la prima città al mondo a misurare la happiness che è tradotta in italiano è felicità ma nel senso lato del termine è positività e con un programma ben preciso pensare anche positivo questo aiuta ovviamente a realizzare queste cose queste sono delle foto per darvi l'idea questa è la metro di Dubai ad esempio che ha una una qui sia che vuol dire chi è stato a Dubai avrà visto la metro io dico sempre che i bagni della metro sono più puliti dei bagni di casa mia ma non perché siano sporchi i bagni di casa mia ma proprio perché proprio perché sono proprio veramente puliti brillano e questo mi rafforza quella quell'idea che dicevo prima del del grado dell'alta dell'alta qualità di vita che viene a creare allora il quadro normativo quindi abbiamo un quadro federale che è un quadro che attiene a tutti i sette emirati e poi c'è un quadro locale per ogni per ogni emirato l'impianto normativo è un mix appunto tra sharia l'islamica è un diritto civile di tipo convenzionale rispetto appunto agli altri paesi del colpo sono più liberali gli altri sono ancora più conservatori Dubai sicuramente è la punta di diamante dell'apertura verso l'occidente il sistema giudiziario degli emirati è federale quindi tutti i sette emirati hanno un sistema un sistema federale al di fuori appunto di Dubai di Russia che si sono dotati di un sistema apposito il sistema di quindi ci sono tre gradi di giudizio quindi dal primo grado all'appello alla cassazione un po' il modello italiano e poi c'è una legge islamica che ovviamente è la sharia che soprattutto regola il diritto di famiglia in ambito appunto familiare e seppure appunto i contatti con il Regno Unito siano stati importanti perché fino al 71 Dubai era un protectorato era l'interno del protectorato inglese però non ha adottato un sistema appunto di common law tipico ma appunto quindi non influenzano non sono influenzati da quelle che sono le tendenze del passato ventino adottato un sistema di civil law quindi recependo di fatto quello che è il codice francese romano e egiziano oltre ovviamente come dicevo prima di ispirarsi al sistema dell'accarina io non voglio annoiarvi con questi dati tecnici le slide sono a disposizione di chi le vorrà e comunque tutto l'evento è registrato e quindi disponibile nel canale youtube della camera di commercio per cui potete vedere benissimo nel dettaglio tutte le fonti insomma non voglio annoiarvi anche perché il tempo sicuramente non me lo permetterebbe ma probabilmente neanche la vostra attenzione sicuramente me lo contento quello che posso dire al di là ecco del sistema giudizio un po' anche il sistema fiscale è quello che di fatto è stato il volano trainante sicuramente uno dei fattori principali che ha tratto investimenti da tutte le parti del mondo è che nel 2018 quindi mentre prima non avevamo nessun tipo di imposta diretta o indiretta nel 2018 è stata introdotta l'IVA a 5% tranne che per beni di prima necessità l'educazione e la sanità e nel 2023 proprio dal primo giugno del 2023 parte la corporatitex del 9% che attennava appunto il dottore Giarlova la corporatitex del 9% che però viene come dire assoggetta tutte le imprese della mainland e invece lascia fuori tutte le imprese costituite nella frizzona lasciando comunque sempre una fascia per le imprese più piccole che sono quelle che rientrano in un fatturato di 375 mila di anni sono l'equivalente circa di 100 mila dollari ecco anche nella mainland le imprese che fatturano meno di 375 mila di ran ovviamente non sono soggettate all'imposta del 9% e comunque viene tastato esclusivamente tutto quello che va oltre questa soglia minima io mi fermerei qua lasciando spazio gli altri relatori che sono tanti come dicevo abbiamo voluto dare in questa conferenza in questo evento l'occasione di dare un quadro alquanto completo per quanto ovviamente sappiamo consapevoli che tratta di un paese che certamente è un paese nuovo che non è la Francia non è la Germania non è il Regno Unito è un paese che ha altre regole e che ci vuole anche del tempo per recepire quelle peculiarità tipiche di questo paese per cui non vorrei neanche farvi una indigestione di date però comunque rimango a vostra disposizione anche dopo per qualsiasi domanda vogliate o qualsiasi argomento vogliate approfondire grazie ancora per la vostra partecipazione grazie Luigi allora andiamo avanti con i lavori adesso abbiamo l'altra organizzatrice che interverrà la dottoressa giovanella biondi che dice presidente anche della commissione finanze dell'ordine dei commercialisti di Catania per intanto volevo ringraziarvi per la partecipazione un convegno lungo non semplice da seguire anche perché ci sono alcuni relatori che intervengono con il legamento però era giusto fornirvi un panorama quanto più ampio su tutte le varie tematiche sia di cosa sono i primi lati cosa è il Dubai quali sono diciamo un po' la normativa ovviamente l'abbiamo detta sommariamente poi come commercialisti potremmo anche approfondire essere anche un po' più tecnici però era giusto fornire questo panorama la mia impressione anche io ovviamente in maniera molto cauta sopportando i miei clienti a Dubai abbiamo costituito delle società nelle zone franche quindi la mia esperienza è proprio concreta cioè anche attuale ritornata sono state anche 20 giorni a Dubai ho seguito personalmente diciamo le imprese clienti quindi cosa devo dire la mia prima impressione ovviamente è stata di una ottima organizzazione splendide strutture ed è un paese ovviamente diverso da noi bisogna seguire le regole e conoscere le regole del corpo quindi è importante per l'imprenditore e anche per il collega commercialista che ovviamente segue e assiste il proprio imprenditore conoscere bene tutte le normative locali anche diciamo devo dire quelle che sono le consuetudine la parte culturale del luogo ovviamente per l'impresa che affronta questo mercato ci sono anche dei costi da sostenere che all'inizio possono anche non essere dei costi diciamo molto elevati in particolare anche nelle zone franche la costituzione di una società non è molto costosa però è chiaro che l'imprenditore poi deve muoversi andare in luogo quindi un budget di spesa bisogna sempre diciamo preventivarlo come diciamo finanza abbiamo parlato ovviamente degli aiuti di Sace degli aiuti di Simes è giusto dire che ci sono anche degli aiuti che la regione Sicilia come assessorato e l'antività produttiva dedica proprio all'internazionalizzazione del tempo in questo momento i bandi non sono aperti perché siamo in chiusura della precedente programmazione la nuova programmazione 2021 2027 è in apertura però già abbiamo una novità rispetto alla precedente programmazione la Sicilia ha istituito proprio questo portale regionale per l'internazionalizzazione delle imprese è un portale che nasce proprio per dare le informazioni conoscitive alle imprese che vogliono intraprendere questi percorsi di internazionalizzazione è un portale online ma non è utile soltanto a livello di informazioni generiche questo portale da ora in poi si potrà accedere per poter partecipare ai bandi che finanziano le imprese che vogliono accedere a questi percorsi di internet quindi prima avevamo la classica siete dei colleghi avevamo la classica presentazione con modello cartaceo tramite PEC ora tutto sarà automatizzato e sarà possibile per le imprese presentare tramite questo portale è un portale ho messo anche l'indiritto del portale export.regione punto Sicilia punto e ovviamente il riferimento del portale abbiamo sempre il dipartimento di riferimento del dipartimento regionale delle attività produttive del servizio 4 internazionalizzazione attività promozionale e questo non è variato diciamo però tutto sarà svolto tramite questo portale analizziamo ora per avere delle anticipazioni per intanto perché sono importanti questi plan di siciliani perché consentono di avere dei contributi in campo capitale quindi sono non dei finanziamenti agevolati ma diciamo a fondo per tutto e quindi l'impresa effettivamente può sostenere un buon percorso di internazionalizzazione specie nella fase iniziale la tipologia di bandi che diciamo ora seguendo la prossima slide ho inserito i bandi della precedente programmazione come vedete purtroppo l'ultima scadenza è stata il 29 di 25 di maggio sono di due tipologie avevamo la 341 cambierà il numero ma non le tipologie di bando quindi dei bandi che consentono il finanziamento per partecipare a delle fiere internazionali e altri bandi che ora vedremo dopo che è la 342 che consentono un percorso di finanziare i percorsi di internazionalizzazione in maniera un po' più alta la 342 si rivolge ovviamente alle piccole e medie imprese consente di spiegare cosa soprattutto la partecipazione a fiere che abbia un carattere internazionale quindi ad esempio l'e-stand l'iscrizione nel catalogo delle imprese partecipanti tutti questi servizi vengono forniti cioè l'impresa partecipa viene finanziata e non avrà dei costi aduniti tranne nel caso in cui l'impresa poi ad esempio ampliare il proprio stand su questa fiera e allora in quel caso è data possibilità di incrementare la stand però a proprie spese l'intervento è molto soprattutto per determinate categorie di attività quindi citate alcune che sono ad esempio l'agroalimentare la moda l'orificeria l'orificeria abbiamo visto così importante per quanto riguarda Dubai perché uno è veramente un settore molto promessente quindi per le imprese che hanno le caratteristiche per poter intraprendere questo percorso attenzioniamolo il sistema casa molto richiesto perché ovviamente Dubai abbiamo una componente forte di sviluppo dell'immobiliare e dell'edilizia quindi tutto quello che riguarda anche la parte affredamento italiano è molto molto richiesto quindi la nautica l'artigianato sono tutte delle chiere che ovviamente qua riporto soltanto le chiere del 2023 che ancora devono svolgersi per quanto riguarda Dubai abbiamo la Big Five che è la fiera che sarà il 4 al 7 dicembre che riguarda il sistema casa quindi proprio tutti gli arredi e tutto quello che diciamo normalmente riguarda l'immobiliare invece i bandi sempre della precedente programmazione però lo schema di questi bandi ve l'ho riportato perché sarà comunque sempre riportato cambierà il numero non si chiamerà più 341 342 ma saranno i bandi che vedremo di prossima pubblicazione penso non passerà ancora tantissimo tempo e la 342 invece è un bando un po' diverso perché rafforza praticamente l'apertura all'internazionalizzazione dell'impresa è un bando che prevede un contributo in conto capitale a fondo perduto nella precedente programmazione avevamo un massimale di 120.000 euro con un fondo perduto di 100.000 euro quindi avevamo la possibilità effettivamente di fare portare avanti dei bei progetti di internazionalizzazione cosa abbiamo fatto nei progetti di internazionalizzazione con i quei c'è l'entitanti abbiamo soprattutto strutturato dei progetti che riguardassero sia i costi della consulenza quindi i piani di marketing piani di comunicazione partecipazione a piedi internazionali inserimento della figura dell'export manager molto importante per l'impresa e una cosa molto interessante che abbiamo portato avanti erano i tempore di store cosa sono i tempore di store l'impresa inizia il proprio percorso di internazionalizzazione in un paese in quel paese non è conosciuta un investimento forte per aprire un punto vendita o comunque diciamo per posizionare il proprio prodotto effettivamente all'inizio non è consigliabile col tempore di store invece abbiamo avuto la possibilità di posizionare i prodotti delle aziende cos'è un tempore di store è un'apertura di uno spazio espositivo all'interno ad esempio di un ristorante un posizionamento strategico dove dobbiamo avere ovviamente un buon asflusso di potenziale clientela ma tramite il tempore di store è stato posizionato il marchio per poi espandere la vendita di questi prodotti anche supermercati nel settore oreca e comunque negli altri soldi gli interventi ammissibili già un po' li ho accennati si tratta praticamente della partecipazione alle fiere di azioni o tutti consulenza per il lancio dei prodotti abbiamo detto l'export manager e i temporali store cosa succede invece questi sono le spese ammissibili abbiamo già detto il contributo concedibile si trattava di un massimale di 100.000 euro era sempre nel regime dei minimi ma parliamo di un conto capitale quindi l'impresa non lo deve restituire questo è importante non è un finanziamento agevolato come invece quelli che sono stati illustrati da parte di quindi è una tipologia di bandi differente la nuova programmazione che apertura abbiamo nella programmazione 2021-2027 allora queste sono le anticipazioni e quello che possiamo apprendere dal programma regionale 2021-2027 che è stato approvato a dicembre 2022 i bandi della prossima programmazione ovviamente devono anche essere ancora pubblicati però già sappiamo che sosterranno le imprese nei mercati internazionali ovviamente e una particolare attenzione a parte la partecipazione alle fiere che abbiamo visto a parte ovviamente studi di consulenza e accompagnamento nei mercati internazionali ci sarà una particolare attenzione alla parte della digitalizzazione proprio perché anche è un po' l'indirizzo generale ma questo si è visto come ad esempio la forte diffusione dell'e-commerce per quanto riguarda la velocità anche nel posizionare i prodotti anche da Dubai devo dire c'è una forte presenza di e-commerce tra le nuove imprese che si aprono anche nelle zone franche ho notato l'ostanziamento delle ritorse previsto per interazione è di 30 milioni che sarà divisa tra queste due tipologie di bandi che c'è la prima 341 342 e quindi c'è un buon ostanziamento di risorse la cosa importante qui vedete anche diciamo quello che già un po' vi ho accennato ci saranno anche delle iniziative non solo sui settori mercato ma anche iniziative che riguardano l'incoming e l'outgoing e anche iniziative proprio di scouting e servizi di accompagnamenti per le imprese quindi diciamo un buon piano di internazionalizzazione la cosa importante al di là di questo diciamo di anticipazioni sui nuovi bandi è che la regione siciliana in tutta la programmazione e in alcuni bandi ad esempio abbiamo visto il bando recentemente scaduto di ripresa Sicilia delle attività produttive che era un bando che consentiva il finanziamento fino a 5 milioni di investimento prevedeva tra le tipologie di spesa anche l'inserimento di spese connesse ai processi di internazionalizzazione quindi questo è così sarà e ci sono altri bandi quindi a parte di queste risorse prestamente dedicate ce ne saranno con altre quindi questo è un po' per dire come le imprese e il loro percorso al di là diciamo della consulenza classica dell'internazionalizzazione la parte della finanza è molto importante per ottenere l'impresa in questi percorsi vi ringrazio complimenti alla dottoressa giovanella bionda esperta in finanza agevolata appunto lei è vicepresidente anche della commissione finanza dell'ordine per la sua chiara relazione ci ha illustrato appunto quelli che sono i bandi specifici della regione Sicilia in materia di internazionalizzazione quindi grazie a questo punto avrei come scaletta l'intervento della dottoressa Giada Platania di ah e allora sì sì ci sono eccomi qua buonasera Giada Platania di Sicilio buonasera ringrazio tutti quanti mi sentite aspetta dottoressa perché qua mi dicono mi scusi forse ho sbagliato io nella tempistica nella scaletta io trovo me ma può essere che posso anche lasciare spazio allora aspetti perché forse abbiamo mi scusi mi scuso io con la dottoressa che faremo intervenire subito dopo adesso c'è in collegamento mi scusi dottoressa ho sbagliato abbiamo adesso Mauro Marzocchi che è il segretario generale della Camera di Commercio italiana negli Emirati mi scuso con la dottoressa subito dopo interverrà lei grazie dottoressa è un piacere buonasera Mauro tanto ci siamo visti la settimana scorsa dormiti ciao grazie grazie Giada e scusami per averte anticipato buongiorno a tutti ringrazio ovviamente gli organizzatori da Sicindustria a Luigi Falanga ovviamente al dottor Falanga e tutti gli amici che ci che ci ascoltano con 15 minuti quindi io mi scuso perché arrivo da un viaggio sono ancora in Italia ma è un viaggio abbastanza lungo quindi non ho potuto seguire gli altri relatori e direi in particolare Ice vorrei veramente cercare di non dire cose che abbia già detto lui però conoscendoci mi immagino anche un pochettino quindi ho preferito concentrare questi pochi minuti che ho a disposizione su alcuni messaggi molto rapidi ovviamente legati al business perché è questo che interessa alle imprese come camera abbiamo fatto uno studio su tutti i progetti e tutti i programmi dei tre maggiori emirati quindi Abu Dhabi Dubai e Sargia da qui al 2030 per ogni emirato abbiamo studiato questi sono tutti i documenti che troverete poi nella presentazione paese a vostra disposizione e ne abbiamo fatto una sintesi questo per cosa per aiutare le imprese italiane che vogliono investire e quindi che vogliono aprire società oppure esercizi commerciali oppure anche semplicemente partecipare a delle fiere settoriali abbiamo fatto una sintesi per dare l'idea quali sono i programmi e gli investimenti che hanno nei prossimi vent'anni gli emirati innanzitutto l'ambiente gli emirati arabi ovviamente come in tutto il mondo ma posso dire in particolare in questa area cercano di ridurre al minimo l'impatto l'impatto del cambiamento climatico quindi fuori dubbio che tutto ciò che concerne l'ambiente che va dal riciclo dei rifiuti all'aria e l'acqua sono settori di particolare importanza per cui le imprese italiane che sono anche in questo campo particolarmente l'avanguardia possono avere degli ampi spazi per intervenire purché abbiano dei requisiti di cui parleremo subito dopo anche nel settore della trasformazione digitale ad esempio dei servizi governativi perché perché da qualche anno non tantissimo gli emirati arabi hanno sviluppato molto i servizi un'esercizionale dove Mauro scusami, ci siamo persi l'ultimo pezzettino, probabilmente hai una connessione debole, ci puoi ripetere? Ci siamo persi l'ultimo minuto del tuo discorso. L'ultimo minuto riguarda la trasformazione digitale dei servizi governativi, quindi tutto ciò che servizi sia per il pubblico ma quello che non interessa per le imprese. Ho fatto un esempio per dire che fino a tre anni fa, non di più, per ottenere un visto governativo, un visto di lavoro ci voleva almeno due settimane, oggigiorno via web in due giorni si può avere un visto di lavoro per i nostri dipendenti. Quindi tutto ciò che concerne la trasformazione digitale, anche questo è un settore in cui veramente varrebbe la pena intervenire. Una cosa molto interessante anche qui, dove le aziende italiane sono particolarmente conosciute in tutto il mondo, è nei servizi sanitari, che quindi vanno sia dai macchinari ma anche alle professionalità. Questo perché ormai da anni c'era questo, lasciatemi dire, turismo in uscita sanitario, che riguardava quindi non solo gli emiratini, che comunque sono il 10% della popolazione, ma anche gli spatriati come me, che sono il 90% della popolazione. Quindi a fronte di servizi sanitari di una certa importanza, ognuno se ne interna il suo paese perché sa come muoversi, sa come si sono ospedali, eccetera. E quindi si sono posti i governanti, in particolare di Dubai, devo dire, di come non solo arginare questo turismo in uscita, ma anche anzi come poter trasformare un turismo in uscita in un turismo in entrata. Ovviamente in entrata particolarmente per i paesi del Golfo, certamente non di più, ma è l'altro ovviamente passo, è quello di frenare questo esodo chiamiamo sanitario. D'altronde è stata costituita la prima area, una sorta di nostro distretto industriale, Erker City numero 1, e adesso si sta già sviluppando Erker City numero 2, che sono proprio zone dedicate alla parte sanitaria, quindi con cliniche, ospedali, dentisti, laboratori, tutto quanto, e l'Italia è forte anche in questo settore. Anche il turismo, come sapete, penso che la maggior parte di voi sia venuto a Dubai, il turismo continua a essere un settore in cui continuano ad investire i governanti e su questo si sta muovendo molto anche Abu Dhabi, Dubai ormai la conosciamo, ma anche Sargia, ognuno di questi con alcune caratteristiche particolari. E per ultimo ovviamente il settore delle costruzioni, perché continua veramente in maniera, lasciatemi dire, incredibile per uno che ci vive lì, sembra incredibile che continuano a investire sulla parte immobiliare e ovviamente anche nello sviluppo dell'humus industriale. E qui anche le imprese italiane sicuramente possono dire la loro. Ecco, adesso ci siamo preoccupati dei grandi sistemi, invece veniamo un pochettino con i piedi per terra e vediamo quali sono i settori che negli ultimi 7-8 anni noi abbiamo fatto delle medie, che sono i settori più trainanti per l'esportazione italiana. A seconda degli anni sono o gelleria o macchinari e apparecchiature per l'industria, quindi è importante essere presenti in questo momento di sviluppo industriale, essere presenti sull'industria e sui macchinari, perché questo ci permette di essere presenti nei paesi per anni. E poi i classici, posso dire, non c'è nulla di particolare rispetto a tanti paesi, l'agroalimentare, il tessile, l'abbigliamento, le costruzioni e quindi tutto ciò che riguarda l'arredamento, in Italia lo chiamiamo il sistema casa, e anche la cosmetica e il benessere delle persone. I dati li avrà già ampiamente illustrati l'amico dell'ICE, però vorrei dare qualche dato, lasciatemi dire abbastanza originale, al di là del fatto che ovviamente abbiamo superato i 6 miliardi di euro di esportazione nel 2022, che vuol dire avere raggiunto i famosi picchi del 2014-2015, quindi sono dati veramente entusiasmanti per l'esportazione italiana. Ma ecco, quello che volevo mettere in evidenza è la compressione di questi 6 miliardi di euro, cosa significa in pratica. Noi abbiamo studiato come Camera, per fare una comparazione, per essere più comprensibile, voglio dire, in valori relativi, non solo in valori relativi, ecco, vi dico solo che indicativamente abbiamo, come dicevo prima, abbiamo superato i 6 miliardi di euro, esattamente 6 miliardi di 30 milioni, ecco, voi nel 2022, ecco, tenete in conto che nel 2022 abbiamo esportato 4 miliardi e 800 milioni in India, cioè 1 miliardi e 200 mila euro in meno rispetto a quello che le aziende italiane hanno esportato negli Emirati Arabi. Quindi questo comincia a dare un pochettino il valore incredibile dell'esportazione in questo paese. Un altro esempio ed è l'ultimo, in Brasile l'anno scorso abbiamo esportato 5 miliardi di merci dall'Italia contro i 6 miliardi verso gli Emirati Arabi, ecco, questo sta a significare in pratica quello che avrete già detto tutti, presumo, degli Emirati Arabi quali hub di esportazione per i veri paesi, ecco, io ho voluto solo fare questi esempi, queste comparazioni che permettano all'impresa di rendersi conto di quanto è importante questo paese per l'esportazione italiana. Alcune altre riflessioni sono, ad esempio, perché servono sempre alle imprese, quanto è importante per un'impresa italiana presentarsi in maniera professionale sul web. può sembrare una banalità, non è una banalità negli Emirati Arabi perché gli Emirati Arabi con il 99% della popolazione che usa internet è il primo paese al mondo per l'utilizzo di internet. E questo cosa significa? Significa anche qui la tiro via abbastanza veloce che al di là ovviamente dei social media e tutto quello che può essere delle relazioni personali, dai dati di We Are Social 2020, che devo appunto informare pubblico da dove abbiamo preso questi dati, gli acquisti online sono influenzati dal 30% delle ricerche sul web. Quindi vuol dire che le persone che si connettono e negli Emirati, ripeto, sono il 99% cercano sui web quelli che possono essere i prodotti da acquistare. Ecco, il 30% di questi vengono influenzati dalla presentazione di come un'azienda o un prodotto si presenta sul web. Quindi questo penso che sia motivo di riflessione per tante aziende italiane, possiamo dirlo senza tema di smentita, che molto spesso sottovalutano l'aspetto non solo web ma anche l'aspetto social, dove invece in questo paese è molto importante e quindi io suggerirei molta attenzione. Ancora due parole, c'è ancora cinque minuti. Abbiamo aperto a marzo l'ufficio ad Abu Dhabi, è un'antenna a Riyadh, Arabia Saudita, il mese scorso contanto su una nostra persona di grande esperienza, 37 anni camerale che a Riyadh coordnerà l'ufficio. Perché l'Arabia Saudita? Perché oggigiorno l'Arabia Saudita, non vi sto anche qui tirando fuori tanti numeri, ma oltre ad essere il paese più importante del Medio Oriente con oltre 50 milioni di abitanti, come sapete sta investendo in maniera gigantesca sulla parte turistica, ma anche all'interno del paese si sta molto sviluppando l'humus industriale e commerciale e tant'è che questa notizia mi sembra che valga la pena riportarla, che da febbraio, forse lo saprete già anche tutti, quindi chiedo scusa, ma in Arabia Saudita il visto si ottiene in arrivo. Quindi come a Dubai, fino a febbraio prendere un visto per l'Arabia Saudita era molto complicato, oggigiorno si ha in arrivo e quindi questo facilita veramente moltissimo il commercio e anche ovviamente le relazioni personali. Dico l'ultima cosa in questi quattro minuti che mi restano, sappiamo tutti gli Emirati Arabi, adesso aggiungiamo anche a Arabia Saudita quanto siano importanti per l'esportazione italiana e questi grandi numeri, ma questi grandi numeri sottengono al contrario una difficoltà di accesso al mercato che fino a una decina di anni fa non esisteva, nel senso che ormai i distributori, gli operatori locali sono diventati ormai molto professionali, una volta c'erano le trading, noi siamo come Camera, sono più di vent'anni, poi parliamo lì, una volta c'erano le trading, compravano un po' di tutto, oggigiorno ci sono dei distributori talmente specializzati per cui o sei in un buon rapporto qualità prezzo, packaging, innovazione tecnologica e via dicendo, altrimenti non puoi più accedere a questo mercato come facevi prima. Faccio un esempio, adesso arrivo da quattro giorni di lavori delle cammi di commercio italiane in tutto il mondo, faccio questo esempio, c'è un italiano, una società italiana che da anni importa e distribuisce solo tartufi, per dare l'idea della specializzazione dei nostri distributori e quanto le aziende italiane devono essere attente e come dicevo prima qualificate, innovative, packaging e via dicendo. E questo perché? Perché in tutto il mondo ovviamente abbiamo la competizione, non solo gli Emirati, e che gli Emirati possono fuorviare, quindi questo che è il mio invito, perché è un paese, ormai siete stati quasi tutti, ricco, tutto lucido, tutto grande, tutto ordinato, pulito e via dicendo e quindi chiunque dice ma io vengo qua e non vi posso sbagliare e questo è l'errore più grande che potrebbero fare. Quindi molta cautela, attenzione anche a coloro che vendono fumo, quindi state veramente molto attenti, affidatevi a professionisti, i nostri rappresentativi della Camera come lo è Luigi Falanga ad esempio, perché conoscono il paese, conoscono le leggi e quindi possono consigliarvi per il meglio. Gli ultime cose, mi fa piacere segnalare che da qualche mese abbiamo costituito con altre 19 Camere di Commercio italiane nel mondo un progetto che si chiama Fondi Export, quindi fondiexport.it significa semplicemente che le imprese si possono iscrivere gratuitamente a questo portale e avranno a disposizione tutte le leggi europee, nazionali, regionali, delle Camere di Commercio, cioè tutti i contributi per l'estero che qualsiasi legislazione può dare alle imprese che si affacciano all'estero. Quindi io consiglio di dare un'occhiata a questo portale perché poi è gratuito. Mi piaceva sottolineare questo ultimo servizio che riteniamo che sia una certa importanza per le Camere. Io ho finito i miei 15 minuti, quindi spero di essere stato puntuale e spero che mi abbiate sentito perlomeno. Sì, sì, assolutamente. Un applauso. Un applauso al dottore Marzocchi, segretario generale della Camera di Commercio italiana degli Emirati, per i suoi consigli importantissimi, perché opportunità ma anche rischi. Quindi bisogna assolutamente farsi assistere da strutture già presenti sul territorio, come la Camera di Commercio di cui è segretario il dottore e tutti i consulenti che chiaramente sono certificati e che orbitano attorno alla Camera di Commercio italiana degli Emirati Arabi. Quindi grazie dottore per i consigli. Adesso appunto ridò la parola, scusandomi per prima, alla dottoressa Giada Platania di Sicindustria. Però vedo una mano alzata dell'avvocato Emiliano Russo, quindi vediamo che cosa vuole è l'avvocato Emiliano Russo. Buonasera avvocato. Buonasera, no, semplicemente mi univo all'applauso simbolico elettronico che era stato invocato tutto lì. Bene, prego dottore. Buonasera, ciao Mauro. Allora io... Mauro scusami, ti devi scollegare. Ma Mauro non aveva una presentazione, Mauro stava parlando e basta. Sembra scollegare. Giada puoi parlare, puoi parlare. Sì, sì, sono... Allora io intanto ringrazio la Camera, ringrazio l'ordine dei commercialisti, ringrazio Luigi Falanga e gli amici Stefano Campagna, Mauro Marzocchi, c'è Aisha Giordano e tutto il team. Tra l'altro so che in platea c'è Sace, c'è Simest, c'è Maria Teresa Cardinale di Simest che è un punto di riferimento essenziale per tutti gli strumenti dell'Agenzia della Cassa Depositi e Prestiti, c'è chiave alla pollicina. Quindi la parola chiave in tutta questa giornata di lavori e nel futuro è sempre fare squadre. Perché il lavoro in collaborazione, soprattutto in questi paesi, è essenziale. Io aprirei la mia finestra per lanciare la mia presentazione. Si vede? Vedete la presentazione? Sì, sì, sì. Bene, io mi presento per quelli che non mi conoscono, sono già da Platania, sono responsabile dell'area internazionalizzazione di Sicindustria e sono anche project manager e responsabile di Enterprise Europe Network che è la rete della Commissione Europea per l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione. Noi siamo braccio operativo della Commissione Europea per tutto quello che riguarda lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese. È una rete che è stata voluta nel 2008, è stata lanciata nel 2008 dalla Commissione Europea che era consapevole del fatto che l'ossatura dell'industria europea è fatta proprio dalle micro, piccole e medie imprese e proprio queste vanno supportate per sostenere le loro ambizioni, per farle crescere sotto tutti i profili perché si comincia quella che si chiama, quando si incontra un'azienda, si comincia quella che si chiama client journey. Noi incontriamo l'azienda un poco come fate voi commercialisti e come fanno i consulenti, ma noi lo facciamo gratuitamente perché siamo un braccio operativo, siamo un po' della Commissione Europea, siamo un po' complementari a Lice, dice governativo, noi siamo appunto con questo mandato della Commissione Europea, li accompagniamo ascoltandole piano piano verso una strada di crescita e di sviluppo su vari ambienti. Vi diamo un po' di risultati a livello europeo dal 2008, da quando è stata lanciata la rete ad oggi, dal 2021, che sono gli ultimi dati perché ora siamo nel mandato 2022-23 fino al 25 e siamo in una nuova fase di Enterprise Europe Network, abbiamo dato servizi a oltre 4 milioni di aziende, 2 milioni e mezzo e più hanno avuto servizi di informazione e formazione perché noi ci dedichiamo a vari settori, hanno partecipato oltre 360 mila aziende a nostri eventi con oltre 700 mila incontri, oltre 500 mila aziende europee che hanno ricevuto una consulenza dedicata su innovazione, su internazionalizzazione e altri aspetti e più di 25 mila aziende che hanno avuto dei pacchetti su misura di sostegno all'innovazione, pacchetti su misura che riguardano anche accesso a finanziamenti. Parlavamo di Europa, scendiamo un poco più in Sicilia e noi in questi anni abbiamo fatto una parte non indifferente in ambito italiano e in ambito europeo. Le aziende che hanno beneficiato dei nostri principali servizi sono oltre 10 mila, qualcuno di noi in sala ci conosce bene e ci segue da tempo, con loro collaboriamo da tempo, più di 10 mila aziende che hanno avuto servizi di informazione o sessioni di informazione, che hanno partecipato a sessioni di informazione, oltre 2 mila aziende che hanno partecipato a più di 200 eventi di matchmaking, possono essere state partecipazioni a fiere, missioni in coming, missioni a going, ne parlerò poi più avanti quando faremo il focus sugli Emirati e oltre 7 mila incontri B2B. Più di 200 aziende che hanno raggiunto degli accordi internazionali e ricevuto dei finanziamenti e più di 2 mila che hanno ricevuto proprio una consulenza dedicata. E sono numeri che stanno crescendo perché noi in questo momento siamo la rete più grande al mondo di supporto alle piccole e medie imprese, siamo oltre 458 organizzazioni in più di 55 paesi, è una rete aperta, poi lo vedremo più in dettaglio, e abbiamo per questa fase 2022-2025 una dotazione che è un cofinanziamento della Commissione Europea di 164 milioni in tre anni e mezzo. Quindi vediamo dove siamo, siamo quasi ovunque e come sa bene Luigi falanga ancora non siamo negli Emirati, anche se essendo una rete aperta ci sono le possibilità che consentono a un consorzio di organizzazioni basate negli Emirati di diventare partner di Enterprise Europe Network. Vedete che ci sono tutti i paesi europei e i paesi non europei vanno dal Vietnam all'Egitto, dal Giappone al Singapore. In questo momento ci sono alcuni paesi che sono stati ovviamente messi in stand by, come per esempio la Cina, con cui noi avevamo fatto dei percorsi di collaborazione straordinari, ma in questo momento il paese è congelato per ovvie ragioni, la stessa cosa vale per la Russia e la Bielorussia. Con altri paesi invece ci sono anche altre negoziazioni in progress per fare entrare altri partner. Quindi che cosa facciamo? Abbiamo questo approccio che è un approccio cliente centrico, le aziende e le organizzazioni vengono chiamate clients e quindi il primo approccio è proprio quello dell'incontro e dell'ascolto. Dall'ascolto riusciamo a percepire quali possono essere le esigenze e i bisogni delle aziende e cominciamo a personalizzare i nostri servizi fornendo proprio un'assistenza puntuale per consentire alle imprese di raggiungere i loro obiettivi specifici. Abbiamo una rete che è straordinaria, siamo più di 3000 persone in tutto il mondo, quindi non è che io dico sempre io non sono una tuttologa, ho le competenze ma so anche dove attingere. Questo lavoro che si fa in squadra con altri colleghi che sono dislocati nei vari punti di Enterprise Europe Network del mondo non è una collaborazione esclusiva e la Commissione europea sostiene la collaborazione con gli stakeholder esterni e qua oggi ce ne sono tanti, c'è Sace, c'è Simes con cui comunque Confindustria è un partner privilegiato ma a maggior ragione come partner di Enterprise Europe Network abbiamo svolto tantissime iniziative insieme per fare raggiungere dei risultati alle aziende. Faccio un esempio, si parlava poco fa di Simes e degli strumenti PNRR, insieme a Simes abbiamo organizzato tantissimi momenti di incontro sia collettivi organizzando webinar, ricordo che questi strumenti sono partiti in pieno periodo Covid, quindi organizzando incontri a distanza e poi momenti individuali fra imprese affinché queste imprese riuscissero a presentare le istanze per ottenere finanziamenti per l'internazionalizzazione, la transizione ecologica e digitale e ad avere successo nella presentazione delle istanze. Questo l'abbiamo fatto insieme a Simes e abbiamo noi sul territorio Maria Teresa Cardinale che è uno straordinario punto di riferimento. Stessa cosa vale per Sace, con Sace abbiamo organizzato tantissime iniziative, l'ultima è stata proprio qualche giorno fa durante l'organizzazione di un incoming a Messina dedicato a buyer internazionali del mondo del vino e lì c'era proprio Chiara Pollicina con Lorenzo Gagliano che hanno parlato dei servizi che sono stati presentati anche oggi per le imprese e non solo quelli per le imprese, qualche tempo fa, mi pare il 18 giugno, il maggio voglio dire, abbiamo organizzato un evento con questa volta con l'ordine dei commercialisti di Palermo proprio per parlare delle collaborazioni che Sace instaura con consulenti e commercialisti per supportare le imprese, quindi è un lavoro di squadra che poi ci consente di raggiungere il risultato. Come facciamo, come accompagniamo i temi e il mandato che ci viene dato dalla Commissione Europea è questo e questi sono i temi chiave che poi sono collegati alla strategia dell'Unione Europea, al Next Generation EU, quindi innovazione, sostenibilità, residenza, mercato unico. Ricordo che quest'anno noi celebriamo i 30 anni del mercato unico europeo ed è un momento straordinario perché noi ci siamo abituati talmente tanto all'Europa che non pensiamo più quali siano e quali erano le difficoltà quando non eravamo mercato unico. Difficoltà che si ripresentano ultimamente ho avuto delle aziende che hanno avuto a che fare o che hanno a che fare con il legno unito e la stanno impazzendo, ma loro non sono più nel mercato unico e quindi quello è un nuovo problema. Partnership commerciali perché l'obiettivo quando un'azienda viene da te, che cosa vuoi fare? voglio vendere, voglio comprare e noi li accompagniamo, li aiutiamo anche in queste fasi naturalmente dalla conoscenza dei mercati al benchmarking, alla selezione dei prodotti eccetera eccetera. Digitalizzazione, il mondo va verso una digitalizzazione sempre più spinta, quindi su questo noi puntiamo moltissimo. vi lancio un'anteprima perché a settembre organizzeremo un corso sull'intelligenza artificiale per l'export, ci sono degli strumenti di intelligenza artificiale di cui non bisogna avere paura, bisogna conoscere e gestire, imparare a gestire, che potranno essere molto utili per l'export o per la gestione dei mercati internazionali. internazionalizzazione che significa superare i confini del mercato unico e cominciare ad aprirsi al mondo più ampio, quindi per esempio agli emirali. Access to finance, come posso ottenere finanziamenti? Partecipando a programmi europei, partecipando a nuovi progetti, ci sono tutti cascate funding, ci sono tantissime iniziative. Quindi innovazione, rafforziamo e cresciamo sviluppando nuovi prodotti, nuovi servizi, sostenibilità è una delle parole chiave, tra l'altro anche lì vi faccio un anticipo, a ottobre si organizzerà a Palermo all'Assemblea regionale Global Compact, che è l'incontro dedicato alla sostenibilità dell'ONU. Quindi anche lì noi collaboreremo all'organizzazione di questo evento, 17 e 18 ottobre, già vi posso anche dare le date. Ma sul tema sostenibilità come SIGI Industria, come Enterprise Europe Network, noi siamo molto sul pezzo, anche perché stiamo organizzando, organizzando, stiamo partecipando a un progetto di Horizon Europe che aiuta le aziende che vogliono crescere da questo punto di vista ad ottenere un finanziamento e a ottenere anche fondi venture. Questo è un altro progetto, che diciamo è una costola di Enterprise Europe Network, si chiama Progetto Stage, poi chi fosse interessato posso approfondire e ci possiamo sentire successivamente, quindi alle aziende verranno dati prima dei finanziamenti fino a 50.000 euro per sviluppare un loro piano di transizione ecologica e sostenibile. E poi è un lavoro a fanne, la Inbuto, che parte da una formazione, dalla presentazione di questi piani di investimento, e poi le 20 migliori aziende in Europa saranno accompagnate all'incontro con venture capitalists pubblici e privati europei. Resilienza è la parola trasversale su tutto, perché le imprese adesso devono adattarsi ai cambiamenti, ma adattarsi ai cambiamenti significa tantissime cose, significa accrescere le competenze interne, significa sicurezza informatica, significa riprendere le fila della supply chain, dove questa supply chain certe volte è stata distrutta, soprattutto nel periodo post-Covid, quindi come ricreare le catene di approvvigionamento, significa adattarsi anche per essere più efficienti dal punto di vista energetico. e noi anche lì, ascoltando l'impresa, accompagniamo le aziende, troviamo, cerchiamo di indirizzarle verso gli strumenti che possono essere più adatti. Il nostro obiettivo è il successo delle aziende, quindi il nostro successo è il loro successo. Insieme, ricordo ancora, agli stakeholder con cui collaboriamo. Partnership commerciali. Ripeto, le aziende possono fare di tutto, possono partecipare ai B2B, come è successo la settimana scorsa a Messina, abbiamo fatto più di 150 incontri con 18 buyer dalla Cina, dall'Inghilterra, dall'Olanda. Possiamo creare insieme dei profili di cooperazione internazionale, promuovere questi profili di cooperazione internazionale all'interno del database del network e cercare insieme ai nostri colleghi che sono partner nella rete, gli interlocutori più adatti per raggiungere appunto l'obiettivo della partnership, che può essere una partnership di tipo commerciale, ma può anche essere una partnership di trasferimento tecnologico, può essere una partnership per partecipare a progetti europei, quindi le soluzioni sono veramente tante. Digitalizzazione, ve ne ho parlato, ma questo è un discorso veramente molto ampio. Access to finance, gli strumenti per i finanziamenti. Abbiamo SACI, abbiamo Simest e ce ne sono tantissimi altri che provengono proprio dai programmi a gestione diretta dell'Unione Europea e da tantissimi altri strumenti di altri programmi europei, per esempio. Il mercato unico europeo qua in questi anni si sta celebrando proprio il trentesimo anno e quindi ci sono tanti orientamenti nella legislazione e tanti aggiornamenti e in questo caso è anche la Commissione Europea che chiede un riscontro alle aziende e alle organizzazioni, soprattutto quando predispone dei nuovi regolamenti e allora lancia delle consultazioni per ascoltare e per avere il feedback da parte delle aziende. Noi in questo caso facciamo da collettori di queste istanze e le trasferiamo alle Commissioni Europee. Tra le altre cose, un altro tema è quello delle contestazioni che avvengono a livello europeo tra Stato e Stato, in questo caso noi ci appoggiamo a un altro strumento che è Solvit e attraverso Solvit riusciamo a lavorare e a risolvere le controversie a livello di Stati Unionali. Internazionalizzazione, le opportunità sono tante, ne stiamo preparando per esempio una per il prossimo novembre, a fine novembre e inizio dicembre organizzeremo una missione dedicata all'agroalimentare insieme alla Camera di Commercio italiana a San Paolo e a quella italiana a Rio de Janeiro, dedicata al settore agroalimentare. Quindi anche lì tantissime opportunità, sugli Emirati mi focalizzo dopo, quindi sono dei flash che vi lancio. Tutte queste iniziative sono dedicate non solo alle imprese che già esistono, ma anche alle start-up e alle Skylab, quindi le aziende che già sono arrivate a un certo punto, ma possono continuare a crescere e diventare e ad affermarsi come imprese forti. Le nostre aree di competenza, le vedete qua, si collegano agli ecosistemi industriali, quindi praticamente tutti i settori, dal turismo alle industrie creative, l'aerospazio, l'elettronica, l'agroalimentare. Quindi siccome siamo veramente tanti, siamo più di 3.000 con circa 600 organizzazioni, siamo divisi in gruppi settoriali, sempre con questo approccio cliente centrico, azienda centrica e che è sempre collegato con questa squadra di stakeholder che sono stakeholder locali, come le nostre agenzie governative, come la regione siciliana. Noi facciamo parte per esempio della strategia dell'innovazione, siamo nel gruppo di lavoro della strategia dell'innovazione, sia internazionali, quindi Camera Italiana negli Emirati, le altre Camere internazionali, altri attori internazionali. Oltre ai gruppi settoriali che sono diretti alle aziende, proprio per continuare a crescere anche internamente, abbiamo anche dei gruppi tematici, abbiamo 10 gruppi tematici che corrispondono alle attività e alle priorità di internazionali, quindi quelle di cui ho parlato poco fa. La composizione del network la vedete qua, ci sono la parte delle associazioni industriali, noi siamo fra le poche associazioni industriali nel network, le Camere di Commercio sono abbastanza aberte e rappresentate, poi ci sono enti privati e pubblici specializzati, agenzie governative, istituti di ricerca e parchi scientifici. Ci trovate dovunque, è una cosa molto bella, a parte il sito web, il blog, i social media, che quando noi raggiungiamo dei risultati belli, questi risultati belli vengono pubblicizzati a livello della rete e quindi hanno una copertura mediatica mondiale, vengono pubblicate delle success stories e diffuse attraverso video e anche attraverso dei premi che la Commissione Europea assegna ogni anno ai tre migliori casi di successo a livello di network. È un network aperto, di questo ve ne avevo parlato e proprio per questo vi vorrei raccontare quello che è la nostra esperienza con gli Emirati. La nostra esperienza con gli Emirati comincia nel 2016 con una missione di imprese non solo siciliane, anche qui il respiro è ampio, perché eravamo imprese da sei paesi. Eravamo con il Regno Unito ancora nell'Unione Europea, insieme alla Grecia, insieme alla Lituania, al Belgio e all'Ungheria. Abbiamo avuto incontri B2B, incontri con i maggiori enti governativi, centri di ricerca, organizzazioni, ovviamente nella fotografia a destra vedete Mauro Marzocchi in fondo, è una presentazione, questo è uno degli uffici della Camera Italiana degli Emirati, stavano parlando di Dubai South, me lo ricordo ancora. Quindi questo è stato il nostro primo incontro con Mauro e con la Camera Italiana negli Emirati in sede, mentre invece a sinistra vedete la foto alla Dubai Chamber of Commerce, quindi l'omologa delle nostre Camere di Commercio è una camera potentissima, è quella signora che vedete tutta vestita di nero, alla mia sinistra, lei è una delle 100 donne più potenti al mondo, Rajal Gurg, si parlava, Mauro parlava del settore sanitario, lei oltre ad essere una delle donne più influenti, appartenere a una delle famiglie più influenti del mondo emiratino, fa parte anche del Gurg, Rajal Gurg, Hospital Center, quindi si occupa moltissimo del tema sanità e non solo, perché ne parlavamo tanto tempo fa con Stefano Campagna, un gruppo familiare parte da un tipo di business, può essere quello del petrolio, può essere di altro, ma poi si ramifica su tantissimi settori. Quindi da quel primo incontro con Mauro Marzocchi abbiamo poi organizzato insieme a Luigi Falanga, alla Camera di Commercio Italiana, un incontro a Palermo dove abbiamo siglato un protocollo di collaborazione e da lì abbiamo sviluppato tantissime iniziative, tra i partecipanti c'era Antonio Varvaro, l'avvocato Antonio Varvaro che è diventato uno dei nostri punti di contatto, fa parte del gruppo desk Emirati, cioè i nostri consulenti esterni che danno i servizi di primo livello gratuitamente alle aziende che fanno parte della nostra rete e che poi naturalmente se vogliono procedere fanno altri tipi di percorsi, ma insieme per raggiungere lo stesso risultato. E questi sono alcuni dei nostri stakeholder, quindi la Camera di Commercio, l'Italiana negli Emirati, la Dubai Chamber, altre organizzazioni consulenze, il Helmer Group, ovviamente Share a Future, la società in cui lavora Stefano Campagna, e le grandi organizzazioni emiratine, quindi DMCC che è il Multicommodity Center di Dubai, è un gigante, SAIF che è la free trade zone di Sharjah, così come Shuruk che è l'autorità di sviluppo e investimenti di Sharjah, che siamo andati a visitare proprio nella prima missione del 2016, Rakesh che è una delle tante altre free trade zone, Dubai Future Accelerators, Dubai Future Foundation, ne ho parlato in precedenza, di Akron Group e poi mi piace ricordare che ci sono tanti siciliani, a cominciare da Stefano Campagna che è una metà siciliano, ma c'è Antonio Varvalo che è proprio siciliano, Dermion che è un giovane imprenditore che è partito come punto di riferimento di Enit a Dubai e adesso ha lanciato una sua società, una destination designer group per il turismo. dagli Emirati. Abbiamo organizzato tantissime iniziative e l'ultima missione è stata fatta a dicembre 2019, proprio a ridosso del Covid, anche lì una missione organizzata insieme ad altre organizzazioni internazionali, questo ci ha consentito di fare squadra e di incontrare i più importanti stakeholder degli Emirati. Questa volta siamo andati a visitare l'Emirato di Ras Al-Kaima, oltre a quello di Dubai, ma siamo andati a visitare anche i cantieri di Expo Dubai. Quindi è stata un'emozione straordinaria vedere il work in progress di questo momento che poi è stato bloccato nel 2020 a causa del Covid. E appunto per questo erano stati previsti, per esempio, una partecipazione massiccia della Cina perché ci sarebbe stata una grande celebrazione del Capodanno cinese, è stato tutto spostato nel 2021, ma sappiamo che ha avuto un grandissimo successo. Comunque noi, nonostante il Covid, non ci siamo fermati perché insieme a Stefano Campagna e insieme a Luigi Falanga abbiamo lanciato un'iniziativa dedicata alle imprese siciliane che erano interessate ad entrare nel mercato emiratino. Quindi come si ci indossa Enterprise Europe Network abbiamo lanciato un avviso per manifestare interesse a incontrare individualmente, naturalmente online perché quello potevamo fare, Stefano Campagna per parlare delle potenziali opportunità di ingresso nel mercato emiratino. Insieme a Stefano e Luigi abbiamo organizzato una ventina di incontri dove Stefano, come si è detto prima, è stato molto onesto, c'erano delle aziende che pur essendo ben strutturate, qua si parlava di waste management, si parlava di settori non diciamo semplici, erano settori dove le aziende erano comunque tutte ben strutturate, erano grossi gruppi industriali, però lui diceva guarda tu sei pronto o tu non sei pronto. E alla fine siamo arrivati con alcune aziende che sono entrate nel mercato emiratino grazie al nostro lavoro di accompagnamento come Enterprise Europe Network e ai servizi di Sheriff Future e della Camera di Commercio Italiano negli Emirati. Io mi fermo qui perché so che dopo c'è proprio una di queste aziende che ha aggiunto l'obiettivo. Non so se si vede... ci sono? Sì, dottoressa, allora grazie veramente, la sua relazione è stata veramente importante e l'apporto... Io ho dato l'assist in questo modo a Rocco Martello perché saluto perché abbiamo potuto insieme un percorso che sono contenta abbia avuto... Allora, la parola d'ordine di Confindustria giustamente è il gioco di squadra, questa è la cosa fondamentale, è vero, quindi è importante... Salve... Salve... Con loro siamo andati pure in Cina... Giada, sono Stefano, solo per dirti che mi spiace molto non vederti qua oggi e ti ringrazio per tutte le belle parole che hai detto... Vengo di vederti presto... Ci vedremo presto, ci vedremo presto e buon lavoro... Ciao... Allora... Allora, mi rendo conto che questo non è un convegno ma sono dieci convegni riuniti in un'unica giornata... Allora, scusate questa osservazione... Allora, ora passiamo al... ci sono i case history... Abbiamo le esperienze dei fratelli Malotta... Fratelli Malotta... Mi vedete? Mi sentite? Fratelli Malotta... Eccomi qua... Mi vedete? Salvatore, ciao, sono Stefano... Ti vediamo e ti sentiamo... Perfetto... Non sono io il moderatore quindi... Mi improvviso... Ok... Ok... Allora, anzitutto grazie... Grazie per questa opportunità... Grazie dell'invito... Quindi ringrazio il dottor Luigi Falanga... Ma fatemi veramente... Mi ha anticipato... Ringraziare Stefano Campagna... Per questa opportunità che abbiamo preso al volo e vi spiego perché... Mi ha... Vi ruberò pochissimo tempo... Mi ha invitato a partecipare... Per ragioni personali da remoto... Eravamo in macchina... Avevamo finito esattamente 14 giorni fa... Due settimane fa eravamo... Io ero a Dubai con lui... E avevamo fatto il nostro percorso... Le nostre giornate dai clienti... Dai potenziali clienti... E mi ha proposto questa cosa... Sai, vuoi dare la tua testimonianza? E dico che... Cade bene... Cade bene perché... Diciamo... Siamo proprio in work in progress è il caso di dire... Faccio un passo indietro... Sono Salvatore Marotta e assieme a mio fratello Antonio... Sono la seconda generazione di questa società... La Fratelli Marotta SRL... Che come ormai pensa Stefano... Proprio quest'anno compie 50 anni... È stata fondata nel 1973... Ed è un'azienda che è il classico esempio siciliano... Di un'azienda che nasce da gente... Che negli anni... A fine degli anni 60... È emigrata... In Germania... In questo caso... Mio padre e i miei fratelli... È andato a inventare un mestiere... Quindi nelle classiche fabbriche siderurgiche tedesche... Anziché rimanere lì... Come tanti hanno fatto... Loro hanno investito... Ci hanno messo tempo, capitali e lavoro... E hanno creato questa azienda... Azienda che era specializzata... Su tutto quello che era l'ambito del serramento... Quindi gli invissi, porte... Eravamo produttori... Erano fornitori... Sia per privati... Ma anche per loro clienti... Diciamo business... Tutto si lega in quel mondo... Che io in quegli anni che io non ho conosciuto... Del famoso boom economico... Quindi l'edilizia pubblico residenziale in Italia... Un po' che è quello che stiamo... Di cui stiamo parlando di Dubai oggi... Succede che negli anni 2000... Io e mio fratello prendiamo in mano questa società... La vecchia generazione ormai era... Bondaloro in pensione... E abbiamo chiuso il cangello... Abbiamo chiuso il cangello... Siamo diventati prettamente B2B... Abbiamo iniziato a specializzarsi su un unico... Se un solo prodotto... Il controtenaio per porte... Sistemi scorrevole a scamparsa... Eurocassonetto... Fare una sola cosa significa che la devi fare bene... Perché non puoi permetterti il lusso di sbagliare... Sono i vantaggi e gli svantaggi di essere solo monoprodotto... Dove... Attenzione... Monoprodotto ci sono 50 prodotti a catalogo... E il fatto di avere deciso... Queste due scelte... Di avere deciso di chiudere... L'azienda al privato... Ma di lanciarci all'edilizia... Gli showroom... A grossi gruppi d'acquisto... E di farlo secondo un criterio di qualità... Ci ha portato inesorabilmente... Oggi che vi parlo... Il nostro fatturato è per esempio il 70% all'estero... Ci ha portato all'estero... E solo un 30% è qui in Italia... Ahimè... Questo perché... Perché purtroppo... Il nostro paese è diventato troppo concorrenziale... Non è una cosa bella quella che dico... Però è la verità... Io vengo appunto da Dubai... Da 15 giorni fa ero con Stefano... E lì... Noi imprenditori non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale... Noi abbiamo il Made in Italy... Che nonostante tutto quello che si può fare... Tutto quello che si può dire del nostro paese... A livello manifatturiero viene molto apprezzato... Mi interessa vedere la scheda tecnica... Mi interessa vedere che c'è la serietà da parte delle aziende... Dubai risponde... Mi fa piacere intervenire dopo tutti questi interventi che ho seguito con interesse... Perché penso assieme anche all'altra società... L'altra società ha maggior ragione... Perché mentre io sono all'inizio di questa esperienza... Loro già sono dentro più di me... Rappresentiamo l'altro lato della scrivania... Tutto l'altro aspetto... Io l'unica cosa che voglio dire a chi ancora non c'è stato... Chi ancora non ci lavora... C'è il luogo comune tra imprenditori e Dubai... Dubai... Andiamo a Dubai... È facile... È stato pure detto... Tutti vanno a Dubai... Andiamo tutti a Dubai... Il problema non è arrivare a Dubai... Ci vogliono 5 ore d'aereo... Il problema è rimanerci a Dubai... E io l'ho vissuta sulla mia pelle... Perché il nostro prodotto... Nonostante tutto quello che si possa vedere... Queste torri... Questi edifici... Il classico contro telaio... Della porta che scorre dentro un muro... È un prodotto sconosciuto... Non lo conoscono... Quindi il lavoro straordinario... Assieme a Shara Future... Che stiamo facendo... È quello di... In questo momento... Non tanto vendere un prodotto... Ma stiamo facendo cultura di un prodotto... Quindi noi... Siamo andati a sederci con i consultant... Siamo andati a sederci con gli architetti... Siamo andati a sederci con chi decide... Come fare una casa... Una torre... Un building... Se non lo sanno... Non riusciranno mai a proporlo... Sono cose assurde... Che io l'anno scorso... Neanche avrei potuto pensare... Con questo che cosa voglio dire... Che ci vogliono tutti questi strumenti... Di cui avete parlato... I finanziamenti... Le agevolazioni... Però ci vuole l'imprenditore... Ci vuole l'imprenditore... Che abbia la pazienza... Di rispondere... Fino a qualche tempo fa... Il weekend ancora non era occidentalizzato... Quindi di essere reperibile la domenica... Ci vuole la mentalità... Noi già l'avevamo... Di nostro... Abbiamo uscito un catalogo... Già tradotto in sette lingue... Però io... Tornando sul pianeta Terra... Vi voglio dire... Che sono collegato da Agrigento... Che è a 1500 km da Milano... E che è a 12 ore da Tunisi... Che cosa vi voglio dire... Che la potenza dei nostri anni... Lavorativamente... Ma non solo... E questa globalizzazione... Che noi stiamo vivendo... Che è straordinaria... Questa capacità di poter... Vendere dove vuoi... Però non dimentichiamoci... E questo me l'ha insegnato anche Stefano... In questi giorni... Che questi signori... Dall'altro lato del mondo... Spesso ti pagano prima... La merce prima che arriva... Che tu la produci... E arriva... Passa un mese e mezzo... Quindi si devono... Sono anche loro... Che si devono fidare di te... E quindi... Motivo per cui... Cosa voglio dire... Quando dico ci vuole l'imprenditore... Si parlava di pazienza... Si parlava di tempo... Occorre... Essere pronti e preparati... Perché sono dell'opinione... Meglio non presentarci... Che non essere poco presentabili... Dopodiché... Nessuno ci aspetta... Quando io ci sono stato... Nessuno mi ha detto... Ti aspettavo... Nessuno mi ha detto... Ti conosco... E ci vuole... Veramente... Uno staff dietro... Quindi persone che siano dedicate... Sia a livello interno... Che esterno... E per noi... La collaborazione con Sharaf... Che nasce da una serie di coincidenze... Che non vi sto qui a raccontare... Per me è la testimonianza del fatto... Che esiste sì... Come la vogliamo definire il caso... La fortuna... Però dico anche che la fortuna... Aiuta gli audaci... Rimanendo a casa... O limitandoci alle fiere... Io sono una persona che devo tanto alle fiere... Tantissimo... Lavoriamo in Israele... Lavoriamo a Tunisi... In Spagna... In Portogallo... In Francia... Ripeto... Siamo molto internazionalizzati ormai... Però poi... Vi lascio con questo aneddoto concreto... Ci vuole chi si preoccupa della territorialità... Io da imprenditore sono ormai vent'anni... Che gestisco questa azienda... E tutti gli interessi che ci sono su questo prodotto... Ma sono stati i signori di Sharaf... Stefano e i suoi collaboratori... A intuire per esempio... Un aneddoto... Che è inutile andare a vendere un controtelaio... Per porte scorrevoli... In quanto non si conosce la porta scorrevole... Venderemmo un problema... Non venderemmo un prodotto... E allora... Chi è del posto... È riuscito a mettere insieme i pezzi del puzzle... E noi in questo momento che vi parlo... Stiamo iniziando a spedire le prime campionature... Non avere paura dei prenditori a dire... Se occorre... Se dobbiamo investire... Se dobbiamo spedire merce... La gente non può... Non possiamo pretendere di acquistare... Che acquistino da catalogo... Ma devono toccare e vedere... E Stefano... Dicevo... La sua troupe... La sua staff... È stato fantastico... Perché... Ha capito... Che a Dubai... Per esempio... Una cosa che vale lì... E non vale altrove... Occorreva mettere assieme... L'installatore della porta... Il produttore della porta... L'impresa... Ha creato l'idea del business per tutti... In modo tale che... Ok... Il consalto ti dice... L'ho acquisto... Però tu mi devi dare il prodotto finito... Possiamo fare 10 Big Five... Possiamo prendere 100 aerei... Ma se non c'è la territorialità... Se non c'è qualcuno che ti guida... Specialmente in un mondo... Che è anche culturalmente diverso dal nostro... Io penso che perdiamo troppo tempo... Cioè... Non si arriva da nessuna parte... E quindi... Questa è... Come dire... La mia testimonianza... In questo periodo... In questo momento... Sono stra sicuro che fra un anno... Avrò altro di positivo da poter aggiungere... Con questo... Penso di aver dato... Avrei tanto altro da dire... Però alla fine è questo che mi interessa fare arrivare... Grazie a Marotta per la testimonianza... Grazie a voi... Adesso abbiamo la testimonianza di Rocco Martello... Che è CEO di OWAC Engineering Company... Buonasera a tutti... Grazie per l'opportunità... Ringrazio gli organizzatori... Ringrazio la buonaggiata con la quale... Abbiamo fatto diverse esperienze anche fuori dagli Emirati... Naturalmente... Sia Stefano che Luigi che ci hanno... In qualche modo... Aiutate... Ci continuano ad aiutare... Nell'ambito della penetrazione di questo... Di questo mercato... Io sono il titolare di una società di ingegneria... Che è... Ha una quarantina di persone... Ha la... Diciamo... Nasce... Circa... 15 anni fa... Si occupa prevalentemente di quello che è... Tutto il trattamento del rifiuto... Nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili... Chiaramente essendo un servizio intellettuale... La difficoltà di venderlo all'estero non è indifferente... Però su questo mercato... Perché comunque... A livello nazionale noi siamo molto potenti... Su questo mercato siamo riusciti con il concetto di territorialità che veniva espresso dal dottor Marotta... Siamo riusciti ad avere delle ottime... Siamo riusciti ad avere delle ottime... Delle ottime entrature... Nonché una ottima visibilità... In questo SICI industria, attraverso i consulenti, attraverso Scharf... Certamente sono stati determinati... Perché ci hanno concesso di poter interloquire... Di poter mostrare le nostre capacità... Chiaramente il mercato europeo nel settore ambientale è molto spinto... E pertanto avvicinandosi a mercati che da questo punto di vista sono molto più indietro... Noi abbiamo più facilità di approcciare le problematiche... E quindi interlocutori che inizialmente potevano pensare che noi non fossimo nelle condizioni... Poi si sono dovuti ricredere... E si sono ricreduti a tal punto che abbiamo avuto anche diverse visite qua in azienda da noi... Per vedere le modalità di progettazione... La strumentazione che utilizziamo... In questo momento l'economia circolare... Tutto quello che parla di transizione è certamente molto utile in tutti i paesi... E anche lì dove chiaramente c'è questo oro nero... C'è un problema di natura ambientale non indifferente... E quindi dal punto di vista della concretezza reale... Siamo riusciti ad affiancare delle realtà locali... Nell'ambito di tender... Che vanno uscendo nelle varie aree geografiche... Dove noi riportiamo esempi concreti... E riusciamo anche a essere un elemento di catalizzazione... Fra quello che sono le imprese italiane nel mondo degli Emirati... Perché le attività ad altissimo valore aggiunto che eroghiamo in campo ambientale... Poi necessitano di una applicazione... Come vi ho detto inizialmente... La nostra è una società che lavora fondamentalmente con la testa... Quindi progetta o rivolge attività di direzione lavori... Non è un'impresa... E quindi diciamo tutte le idee... Tutte le best practices... Quindi tutte le migliori attività di ingegneria che si possono spendere sul campo... Poi devono di fatto trovare un player che sia nelle condizioni di metterle in atto... E questo diventa per altri colleghi e per imprese italiane una via di accesso... Quindi io dico che questa azione, questa attività che si sta facendo a livello internazionale... Che si industria con i suoi consulenti portati... È un'attività ad ampissimo spettro... Che consente veramente di portare il Made in Italy... Che non è solo sul prodotto... Ma è anche sulle tecniche... Sulle tecniche di ingegneria... Anche diciamo in paesi dove... Presumibilmente voi vedete che c'è uno sviluppo... Che può essere di natura costruttiva... Ma su quello che è tutta la parte ambientale... Come anche in Cina... Sono paesi dove tutto ciò viene sottovalutato... E chiaramente sono i problemi degli effetti serra globali... Quindi tutti noi sappiamo quale difficoltà oggi alcuni paesi creano su quello che è il riscaldamento globale... E la buona ingegneria e la buona pratica si riesce a esportare nel modo migliore... Consentendo di aprireci nuovi orizzonti e nuovi mercati... E poter di fatto creare delle sinergie molto molto utili con altre ditte italiane... Che vanno diciamo al di là di previsioni e di un mercato che comunque all'interno della nostra nazione è sempre in contrazione... O ci crea diciamo delle difficoltà... Questo noi che abbiamo un'esperienza anche su tanti altri paesi... Io vedo che proprio negli Emirati riusciamo ad avere un appeal analogo se non maggiore... A realtà di altri paesi come possono essere i francesi, come possono essere gli inglesi, gli americani... Perché su questo bisogna stare molto attenti... Nel senso che nei paesi esteri c'è una concorrenza fortissima nell'ultimo chilometro... Per poter esportare il proprio brand... E qui la differenza viene fatta proprio dagli operatori... Cioè viene fatta da tutti coloro i quali riescono ad agganciare in modo significativo la territorialità... Quindi il lavoro che viene svolto da Sicindustria e che viene poi svolto dai consulenti di Sicindustria... In questo caso parliamo appunto di Sharap sul territorio stesso... Diventano determinanti per poter arrivare all'obiettivo nell'ultimo chilometro... Perché se no proprio là, in quest'ultimo chilometro, malgrado ne abbiamo le competenze... Malgrado siamo preparati, non riusciremmo assolutamente ad arrivare alla meta... Quindi ho fatto questo breve intervento che si chiude con questa considerazione... Che diventano fondamentali, importantissimi in questi momenti di condivisione... E che ci consentono di ratificare sempre di più delle posizioni... Che diversamente non potrebbero essere portate avanti... Grazie per il tempo che mi avete concesso... Grazie, grazie... Rocco, sono Stefano... Un abbraccio, un abbraccio e a presto... Grazie, grazie, grazie a tutti... Abbiamo la presenza qui in sala del dottore Giuseppe Sorbello, amministratore di Xenia... E invito per una testimonianza... Grazie, grazie a tutti... E un saluto anche a Giuseppe Sorbello... Buonasera, intanto grazie per l'opportunità che mi date... Per dare questa testimonianza... Della presenza nostra a Dubai... Io sono Giuseppe Sorbello... Presidente dell'Axene Progetti... E ci occupiamo di servizi... Insomma di progetti informatici personalizzati... Basati su tecnologie innovative... E sulle specifiche esigenze dei clienti... Noi abbiamo pensato di approcciare il mercato emiratino... Già tre anni fa... Poi ci siamo un po' fermati... Perché per via del Covid... Insomma abbiamo dovuto necessariamente ringviare i nostri programmi... Che abbiamo ripreso un anno e mezzo fa circa... E abbiamo fatto una prima fase di conoscenza del mercato... Quindi un assessment del mercato... Mediante incontri con realtà locali... Quindi enti ed aziende... Definizioni di partnership locali... E partecipazione a eventi... Abbiamo partecipato al Gitex... Questo anche grazie all'Ice... Perché siamo stati ospiti delle loro piazze italiane... In questi eventi... Quindi il Gitex che si occupa di tecnologia a Dubai... L'Adipec che si occupa del mercato oil and gas ad Abu Dhabi... E poi abbiamo partecipato anche al Big 5 a Riyadh... In Arabia Saudita ovviamente... Quindi comunque tutte fiere che attengono a quella parte del mondo... Fatto questo assessment del mercato abbiamo cercato di fare una strategia... Che ha portato alla definizione di forniture e progetti tecnologici... In particolare noi abbiamo individuato come settori principali... La raffinazione petrolifera... Che già seguiamo in Italia... E che quindi sperabilmente seguiremo anche negli abilati... E le telecomunicazioni che è un altro settore... Il settore telco che è un altro settore che seguiamo... E poi i servizi più trasversali come la gestione documentale... E i servizi SAP... Ovviamente non tralasciando servizi più generali di transizione digitale... Ne è stato fatto riferimento proprio a questo tipo di esigenza... Abbiamo definito la tecnologia di forniture... Poi il modello di vendita diretto e attraverso anche business partner locali... E la definizione di un canale di marketing attraverso l'agenzia locale... Con le quali abbiamo avviato azioni di branding e lead generation... Tutto questo percorso ha portato finalmente alla Costituzione... Di una nostra partecipata a 100% di una società emiratina... Grazie al supporto indispensabile di Luigi Falanga... Che ci ha veramente accompagnato in questo processo che non è stato esattamente facile... Nel senso che sono passati diversi mesi... Alla fine abbiamo costituito questa società che si chiama Xenicity... Che vuole esprimere la Xenicità... Visto che noi ci chiamiamo Xenia... O la città di Xenia... Ti puoi interpretare in diversi modi... E siamo localizzati nella Dubai Digital Park... All'interno della Dubai Silicon Oasis... Ed è un'azienda comunque che insiste in una free zone... Che è la IFZA... Si chiama IFZA... Ecco non so come... IFZA forse... Ecco... IFZA... Che il cui presidente ha fatto l'intervento... Questo è tutto... Volevo essere semplicemente proprio una testimonianza... Ancora siamo all'inizio... Quindi magari come diceva il collega... Tra un anno cercherò di testimoniare... Insomma un successo effettivo... A quest'iniziativa... Grazie mille... Grazie dottor Sorbello... Grazie Giuseppe per la tua testimonianza... Ma ci tenevo anche ad avere la tua testimonianza... Così come quella di... Di OVAC... Di Orocastonetto... Perché comunque... Abbiamo invitato diversi attori... Della internazionalizzazione... Tra cui SACE... Simest... Iice... Oggi ITA... Con l'obiettivo principale di creare... Rete... Di creare network... No... Simest... Ci ha parlato... Poi adesso magari la dottoressa Gratinacci... Dirà qualcosa in più... Simest... Ci ha parlato... Di questo... Di questa società partecipata... A Dubai... Che si occupa proprio... Di impianti... Della realizzazione di impianti... Di trattamento dei rifiuti... OVAC... Progetta impianti di trattamento dei rifiuti... Per cui si possono sicuramente creare... Delle... Delle reti... Tra le varie imprese... Che operano... In questi mercati emiratini... Mi faceva piacere... Che... Che segni ad esse... La... Propria testimonianza... Perché è un'impresa... Che ha già avviato... Con... Con un percorso... Che è stato lungo... Perché... Abbastanza serio... Perché prima ha verificato... Quelle che potevano essere le opportunità... In mercati emiratini... Dopo averlo fatto... Ha dedicato... Una persona... A sviluppare... Il business... In quell'area... Costituiti una società... Che lui ha detto... Ci abbiamo messo un perpo... Perché... Partecipata... Quindi è una corporate... Quindi partecipata integralmente... Da un'altra società... Per cui il processo... Di costituzione... Di una società... Partecipata da un'altra società... È sicuramente più complesso... Da una... Da una semplice costituzione... Tra persone fisiche... Per cui abbiamo dovuto legalizzare... Documenti... Prima in Italia... E poi negli Emirati... Proprio per la costituzione... Quindi mi faceva piacere... Se tu dessi la questa testimonianza... Anche la presenza di Sace... E Simest... Per capire... In che modo... Oltre... Hai detto... Di quelli... Della... Della collaborazione... Dice... In che modo... Sace e Simest... Possono anche... Aiutare... Che segna... In questo processo... Di internazionalizzazione... Qui c'è Chiara... Pollicina... C'è la dottoressa... Cardinale... Potremmo anche scampiare... Con te... O con chiunque altro... Ovviamente... Possa avere interesse... A sviluppare... Progetti... Imprenditoriali... Della... Grazie... Di fonti immobiliari... Strumento di sviluppo immobiliare... Con investitori italiani... E emiratini... Buonasera a tutti... Sono l'Avvocato Emiliano Russo... Provo a... Collegare... I miei materiali... Grazie... 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 Scusate... Scusate... Grazie. Ecco, adesso collego il documento. Non so se vedete. Non so se vedete il video e anche me in collegamento. Sì, sì, Emiliano, ti vediamo. Ok, perfetto, eccoci. Buonasera di nuovo a tutti. Intanto grazie per l'invito. Desidero ringraziare la Camera di Commercio Sud-Est Sicilia, l'ordine del dottore commercialista di Catania e in particolare la Camera di Commercio Italia Mirata e Arei Uniti per questo invito e per questo evento. In particolare Stefano Campagna, il presidente Luigi Falanga e anche Mauro Marzocchi, il segretario generale. Mi spiace non essere il presidente di persona perché poi trovo che sia anche importante condividere riflessioni di persona. Io farò qualche riflessione sul fondo immobiliare, farò delle riflessioni anche su uno scambio di mercato inverso. Se fino adesso il tenore dell'intervento è stato in prevalenza quello di analizzare come degli imprenditori siciliani possono investire negli Emirati Arei Uniti, o volevo fare qualche riflessione su come il mercato emiratino può venire in Sicilia. Ho esperienza in questi anni, anche grazie all'amicizia con Stefano, Luigi e Mauro, di vedere quante sono le numerose opportunità di investimento da parte del mercato medio orientale verso l'Italia. Io sono avvocato, sono capo del real estate di The White Legal e in questi anni mi sono mosso molto tra l'Italia, gli investitori e il Medio Oriente, dialogando con investitori medio orientali e quando parlo dell'Italia si accendono veramente gli occhi negli investitori perché comunque vedono un paese nel quale le opportunità sono ancora interessanti, nonostante evidentemente gli Emirati Arei Uniti siano un paese che ha avuto degli sviluppi più importantissimi. Noi come The White Legal peraltro abbiamo una nuova sedi in Italia, una sede anche di recente apertura a Catania con il professor Giacomo Gargano, quindi abbiamo, già cerchiamo di intercettare un certo tipo di clientela dall'estero verso la Sicilia in particolare. Lo strumento deputato a meglio intercettare queste opportunità di investimento di investitori emiratini verso l'Italia è il Fondo Immobiliare. È uno strumento finanziario che abbiamo già collaudato in precedenti esperienze, ha delle caratteristiche che lo rendono particolarmente funzionali perché garantisce trasparenza e specializzazione nello sviluppare progetti di tipo immobiliare. Il fondo è in maniera tecnica, mi perdonino magari i miei colleghi professionisti e avvocati, se mi dovessero sentire il fondo, è un contenitore senza testa, in questo contenitore vengono versati capitali, equiti, finanza da parte di investitori italiani o esteri e la società di gestione risparmio è la società che gestisce la longa manus del fondo immobiliare. Il fondo immobiliare ha però delle peculiarità che lo rendono uno strumento ideale per l'investimento nell'interesse di investitori istituzionali perché è un patrimonio autonomo per legge rispetto al patrimonio dell'SGR perché i creditori dell'SGR non possono aggredire il fondo immobiliare, i creditori di altri fondi immobiliari gestiti dalla medesima SGR non possono investire il medesimo fondo immobiliare e i creditori degli investitori che mettono soldi nel fondo immobiliare non possono aggredire il fondo immobiliare. Quindi c'è una separatezza, segregazione economico, giudico e finanziaria tra gli interessi del fondo e gli interessi degli investitori che mettono soldi in quel fondo. Con i soldi che gli investitori mettono in quel fondo, quel fondo poi può sviluppare, può acquisire immobile e sviluppare delle iniziative immobiliari. Nella operatività del fondo interviene anche la banca depositaria che non solo ha funzioni di custodia della cassa ma anche di controllo della corretta gestione della liquidità del fondo. L'esperto indipendente è un valutatore esterno all'SGR del fondo che garantisce su base semestrale il valore del patrimonio immobiliare detenuto dal fondo. L'SGR e il fondo sono soggetti ai controlli di Banca d'Italia e Consul. L'SGR allo stesso tempo, come dicevo, è la testa di questo contenitore che è il fondo immobiliare. L'SGR è il soggetto immobiliare che ha professionalità per sviluppare progetti immobiliari ed è tenuta a svolgere importanti controlli antiriciclaggio sulle controparti. Il fondo immobiliare, a mio giudizio, per una regione importante come la Sicilia che ha delle asset classi interessanti che meritano di essere sviluppate può essere uno strumento per sviluppare il settore del turismo e il settore degli stadi e degli impianti sportivi. Perché questi settori nel dialogo con gli Emirati Arabi Uniti? Il mercato medio orientale è un mercato, focalizzandoci per il momento sul mercato stadi e impianti sportivi, è un mercato particolarmente interessato a sviluppare quegli stadi e impianti sportivi, non solo nei loro paesi ma anche all'estero. Un dato importante è il cambiamento in Italia della proprietà di squadre di calcio verso proprietà straniere, oggi in Italia 13 squadre sono di proprietà italiana 5 straniera negli Stati Uniti, una canadese, una cina. Ho fatto sulla base di pubbliche informazioni come è la situazione proprietaria delle squadre di calcio, guarda caso Palermo è controllata dal City Football Group che è una holding, che detiene l'80% del Palermo, di proprietà di una sede, di una società che sede ad Abu Dhabi che fa capo allo Sheikon Sur. Quando un investitore compra una squadra il passo successivo è sviluppare lo stadio perché così patrimonializza anche la propria squadra. Il Catania Football è di proprietà di un investitore australiano che però ha un'importante azienda nella pianificazione e progettazione di rizzo urbana e richiama un altro concetto, lo sviluppo di stadi apre al concetto di rigenerazione urbana. Sviluppare uno stadio nelle città siciliane significa contribuire ai progetti di rigenerazione urbana, di valorizzazione del territorio, di bonifica del territorio, valorizzazione economica delle aree residenziali e della fornitura di servizi commerciali o tutelare le circostanze. A Messina, sempre sulla base di pubbliche informazioni, è un imprenditore siciliano interessato all'acquisto di Messina e ha già interessi per guarda caso a Dubai ed è interessato a sviluppare un progetto sportivo su un crew dell'acquisto nello stadio San Filippo, il palazzetto dello sport e lo stadio Celeste. Questa è una nostra analisi sulla base del mercato italiano degli stadi. come vedete ci sono numerosi stadi, Catania, Messina, Palermo, Marsala, Caltanisetta, Alicata, Messina di nuovo, che necessitano di una valorizzazione. Notiamo che il settore calcistico è uno dei primi dieci settori più importanti in Europa che esercita le proprie attività all'interno di strutture sportive che sono tra le più degradate in Europa. Qual è l'analisi di questi stadi? Abbiamo 91 stadi in Italia, la maggior parte, il 93% sono proprietà pubblica, il 93% proprietà privata. Quando all'estero hanno investito in stadi, 160 all'estero, sappiamo il Qatar quanto abbiamo investito in quegli stadi, il ritorno economico per queste iniziative è stato di oltre 20 billion di euro con un aumento del 51% dell'affluenza media. Il problema dello sviluppo degli stadi è la proprietà pubblica e comunale, però se si supporta in questo con la finanza privata delle iniziative in questo settore possono sicuramente avere dell'opportunità di sviluppo, soprattutto della capitale emiratini, unendo alla finanza privata le competenze integrate di professionisti che si portano in questo sviluppo. È un momento particolarmente importante per procedere con capitali emiratini che possono essere interessati a larghi interventi di stadio, perché lo stadio sta avendo un'evoluzione importante. Se prima il tifoso era ultra, quindi giovane, maschio, studente, disoccupato, oggi il tifoso è utente, adulto, entrambi i sessi, famiglia con bambino, maggiore capacità reddituale. In secondo luogo, l'ulteriore trend che attira investitori stranieri, tanto più emiratini che, come sappiamo, sono particolarmente interessati, Ronaldo è un caso interessato ad accompagnare lo sviluppo immobiliare, lo sviluppo sportivo, lo stadio deve essere concepito in maniera diversa, struttura monouso, non più monouso come una volta, solo sport, non più solitaria, non più tempo medio di utilizzo, 90 minuti ogni 11 giorni, ma oggi struttura polifunzionale, socialmente integrata, con un tempo medio di utilizzo di 365 giorni all'anno. C'è una legge oggi che permette questo sviluppo, a condizione che ci sia un partenariato pubblico-privato, in cui il pubblico avvia le procedure amministrative, il privato mette equiti nel fondo immobiliare, o il fondo immobiliare tira debito da banche, unendo le competenze tecniche e professionali dell'SGR. Se preparano uno studio di fattibilità, unito a un progetto tecnico, gli architetti, un piano economico-finanziario, che deve garantire la sostenibilità economica, ma anche la valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio. Questo è, se vedete questo schema, è lo schema che è già in fase di adozione su iniziative in Italia di uno stadio della Juventus, su cui ho lavorato, che ha agevolato l'ingresso di investitori istituzionali. Il fondo immobiliare al centro fa l'accordo con la squadra di calcio e col comune per un litro urbanistico e poi nella nostra ideale struttura destinata ad accogliere interessi di investitori esteri, gli investitori esteri mettono cassa nel fondo immobiliare unitamente a finanza locale, camere commercio, a volte mettono un chip, la squadra, fondazioni bancarie regionali e imprenditoria locale. E poi lo stadio si dota di tutta una serie di conduttori commerciali dall'hotel, il medical center, il museo, farmacia, centro analisi, centro abitazione sportiva, handicap. Questi sono i nuovi conduttori commerciali che si aprono a rispondere a esigenze sociali del territorio, spazio congressi o shopping center. Seconda riflessione importante e secondo me ancora più rilevante è il mercato alberghiero in Sicilia, quanto può essere interesse per i imprenditori medio orientali. Il caso vuole, ma poi auspico che non sia un caso, che un quarto d'ora fa io abbia ricevuto un'email dai nostri corrispondenti di Deloitte Dubai per un investitore straniero interessato all'acquisizione importante alberghiera in Italia. Quindi è la conferma tangibile di quanto noi ancora rappresentiamo come paese, sistema paese, la Sicilia in particolare, una terra di attrattiva per gli operatori medio orientali. La Sicilia con i 1500 chilometri di costa e spiagge, il cuore mediterraneo, è una stagione estiva lunghissima che poi da estiva può diventare evidentemente anche una stagione invernale piacevole. Allo stesso tempo il mercato alberghiero italiano e siciliano anche sta vivendo una fase di grande transizione che necessita quindi di un ricambio di proprietà. Il mercato della proprietà alberghiera oggi è un mercato di tipo familiare, un mercato frammentato, è un mercato che sta vivendo le turbative del passaggio generazionale in cui chi ha creato il patrimonio alberghiero 40 anni fa oggi non riesce magari a trasmettere ai figli i quali magari sono destinati ad altro. Altro elemento di spinta per il cambiamento nella proprietà del mercato alberghiero che anche la Sicilia a mio parere deve vivere è il passaggio da una gestione localistica ad una gestione attraverso anche il supporto di brand internazionali i quali danno l'accesso al flusso di turismo internazionale uniendolo alle competenze gestionali degli operatori locali. Negli mesi scorso ero a un convegno peraltro con Stefano e Luigi sul hotelerie a Dubai e dialogando con alcuni dei nostri speaker e con un numero di operatori cosa si attendono gli investitori emiratini quando cercano dell'opportunità alberghiere in Sicilia? Cercano l'axuary resort, quindi resort di lusso sulla spiaggia oppure business hotel, cercano la formula sia hotelerie che appartamenti il livello deve essere 5 stelle e sotto non riescono a dare soddisfazione alla loro clientela se paragoniamo l'offerta turistica che c'è a Dubai con quella che ovviamente possiamo dare in Italia è chiaro che c'è ancora un gap che dobbiamo colmare le dimensioni superficie delle suite che offriamo in Italia anche nelle città primarie sono di lungo inferiore rispetto a quelle attese dalla clientela emiratina c'è l'aspettativa di avere hotel 5 stelle con spiagge private larghe spiagge private o con porti turistici privati per iota, la Sicilia a questo punto di vista si presta possibilità di avere un sviluppo residenziale importante a fianco allo sviluppo alberghiero perché lo sviluppo residenziale permette una permanenza media più lunga e l'accoglienza delle famiglie numerose emiratini quindi la diacenza a campi da golf che attira un turismo internazionale con alta capacità di spesa soprattutto in vicinanza con il rapporto internazionale le città dove investono in alberghiero devono essere gateways cioè città che abbiano il collegamento diretto con Dubai la Sicilia in questo è stato devo dire tra le regioni all'avanguardia perché ha creato come si diceva all'inizio del nostro convegno dei collegamenti diretti con gli emirati arabi uniti gli investitori che investono nell'alberghiero italiano non vogliono avere rischio urbanistico devo dire è il cuore del problema quando si parla di procedura amministrativa per loro è una grandissima preoccupazione quindi il rischio urbanistico deve essere contrattualmente mantenuto a livello di operatori italiano prima che venda il progetto quindi deve vendere un progetto già con il permesso di costruire non basta poi in realtà l'operatore alberghiero vuole un albergo già attivo quindi non vuole neanche il rischio costruzione questi sono due elementi su cui è particolarmente importante fare una riflessione cercano opportunità alberghiere in negoziazione diretta non in acquisto dal fallimento se si riescono a comporre questi requisiti che investitori alberghieri e mediorientali hanno verso il mercato italiano si può anche estendere di utilizzare ampiamente mesi come giugno, luglio ma anche aprile e maggio e allungare la permanenza media anche ad una settimana cosa che oggi si è ristretto questo è lo schema sempre ricorrendo al fondo immobiliare come strumento finanziario immobiliare che sviluppa il progetto alberghiero sopra il fondo immobiliare ci sono gli investitori italiani stranieri, quindi investitori miratino io ho già condiviso peraltro due settimane fa per il convenio a Dubai e ho fatto degli incontri a Riyadh con degli investitori sauditi il mercato mediorientale cerca strumenti di questo tipo come il fondo immobiliare perché sono blindati sono aperti a mettere equiti in un fondo immobiliare il fondo immobiliare riceve cassa dall'investitore straniero acquisisce la proprietà dell'hotel o con compravendita oppure il proprietario conferisce la proprietà dell'hotel nel fondo immobiliare e ne riceve le quote invece che riceve cassa quindi diventa conquistista il fondo immobiliare allo stesso tempo abbiamo la società italiana di gestione come conduttrice dell'albergo la quale fa un accordo di management contract con un brand internazionale quindi avremo l'albergo che riunisce un po' le bellezze dei migliori valori dell'Italia quindi dalla natura, al paesaggio archeologico al food and beverage il proprietario italiano può vendere oppure può rimanere anche nel progetto un gestore italiano però a livello di investitori avremo investitori stranieri e a livello di gestione possiamo avere un brand internazionale segnalo l'ultima riflessione oggi anche gruppi alberghieri sono interessati a entrare nel mercato in Italia non solo comprando hotel ma anche con semplice gestione per offrire alla loro clientela emiratina delle posizioni alberghiere quando quindi compro un albergo o lo prendono in gestione aggiungono il braccio armato del tour operator che indirizza il loro flusso di turismo emiratino verso queste opportunità italiane io vi ringrazio della opportunità dell'intervento e passo la parola di nuovo alla presidenza o un successivo relatore grazie grazie a te Emiliano passo la parola a chiedendo scusa ad Ais poi cerchiamo diamo la parola a Fabio Lombardi che è il collegamento da Dubai e Dubai sono già le nove e mezzo quindi diamo la parola a Fabio e poi a Manuel buonasera mi sentite? si Fabio perfetto grazie ancora Luigi Falanga l'avvocato per questo invito mi presento sono Fabio Lombardi sono vivo e opero a Dubai da oltre 20 anni mi sono spostato qui in pianta stabile a febbraio del 2003 sono un agente immobiliare certificato a Dubai da oltre 16 anni e lavoro per il primo gruppo immobiliare di Dubai di intermediazione la Better Homes con oltre 450 dipendenti di cui 250 sono agenti immobiliari il mio intervento è giusto per ricordare al pubblico che dell'importanza del settore immobiliare delle costruzioni per l'indotto e per l'economia di Dubai è uno dei settori trainanti dell'economia di Dubai quindi per questo prima di dire l'importanza delle opportunità per piccole medie e grandi aziende voglio fare una parentesi su quanto riguarda il settore immobiliare qui a Dubai non tutti sanno ma il settore immobiliare a Dubai è nato solo 20 anni fa quindi pochi mesi che io del mio arrivo a Dubai il decreto dello Cicco che ha permesso nel 2002 con il decreto aprire ai investitori stranieri acquisti di immobili e proprietà sul territorio di Dubai parlo di Dubai perché Dubai è sempre stato pioniere è sempre stato un modello tuttora lo è ma successivamente Dubai gli altri emirati hanno aperto l'opportunità agli investitori a Abu Dhabi quattro anni dopo quindi come potete capire benissimo che il settore immobiliare Dubai è in fermento ma è ancora giovane sono solo 20 anni di cui i primi edifici i primi palazzi le prime ville sono state consegnate solo nel 2004 per quanto riguarda il settore immobiliare è importante dire che è normale che con i cicli economici con la globalizzazione ci sono stati gli alti e bassi per curiosità qualcuno può essere interessato al momento come prezzi in alcune zone per alcuni prodotti siamo ancora a un 20% al di sotto del prezzo del 2013 2014 quindi ci sono ancora per alcuni prodotti opportunità di investimento e di incremento del capitale per quanto riguarda gli acquisti immobiliari ci sono due tipologie di acquisti e da qui poi parliamo dell'opportunità per le aziende gli acquisti oggi come oggi il mercato è abbastanza quasi la marca share è paritario il 50% gli acquisti sono sul mercato secondario ossia di prodotti case che sono già completate e sono messe a reddito il 50% gli investitori stanno comprando prodotti che sono sulla carta il cosiddetto offline prodotti che verranno realizzati tra 4 o 5 anni li paghi in modo dilazionato senza interessi alla fine del pagamento avrai questo immobile che sarà l'ultima generazione nella zona più bella che sarà stata sviluppata a Dubai se uno è interessato a comprare è sempre importante capire cosa comprare dove comprare ma soprattutto da chi comprare da chi è il costruttore alle spalle molti costruttori sono fortissimi a livello di marketing però alla fine non vanno a consegnare il prodotto che era stato dichiarato all'inizio quindi è molto importante sempre come tutte le cose andarsi a mettere in mano a persone consulenti che sono in loco da anni e hanno esattamente la conoscenza dei players e dei vari sviluppatori che sono sul territorio quello che c'è da dire di Dubai ed ecco che le prime opportunità vanno ad affiorare che tutto ciò che è stato consegnato fino ad oggi la maggior parte la maggior parte di quello che è stato consegnato fino ad oggi a livello qualitativo è una qualità media e in alcuni casi meglio o meno scarsa ed ecco che questa è la prima opportunità che vi parlerò tra breve l'altra nicchia che è l'altro segmento di mercato che Dubai e soprattutto gli sviluppatori i developer come si dice qui in inglese che hanno capito proprio per questo flusso di milionari e miliardari che stanno arrivando a Dubai sempre di più c'è una carenza di offerta verso il prodotto lusso e super lusso quindi ce ne sono ma pochi i costruttori i sviluppatori i developer stanno puntando sempre di più sul prodotto di lusso e super lusso proprio per andare a colmare questa domanda che sta venendo sempre di più verso Dubai quando un investitore o un end user o un acquirente di un immobile a Dubai per uso personale acquista casa a Dubai posso assicurarvi che almeno un 75% di questi acquirenti per uso personale subito dopo aver acquistato casa ristrutturano casa in virtù del fatto come dicevo prima che la qualità di queste costruzioni non è il massimo soprattutto gli operatori che hanno parlato precedentemente che hanno visitato Dubai avranno possono dare atto di questa testimonianza e quindi ecco che per le piccole e medie imprese che hanno la possibilità e la voglia di trasferirsi ed aprire magari una realtà qui per ristrutturazioni sicuramente ci sarebbe un'opportunità naturalmente come dicevano anche i rappresentanti della Camera di Commercio non è tutto quello che sembra facile però con la professionalità la qualità la creatività del sempre del Made in Italy se uno vuol fare c'è la possibilità di aprire una porta dal punto di vista delle ristrutturazioni perché tanta la richiesta però in realtà le società che attualmente operano da quel punto di vista siamo sempre lì tanta competizione ma qualità e professionalità ancora è scarsa dal punto di vista invece dell'operatore che ha una forza un po' maggiore più importante ebbene sì magari mettersi in contatto con i developers perché i developers con i grandi nomi che voi probabilmente avete sentito EMAR che è il costruttore principale o il DAMA o il SELECT questi sviluppatori alla fine non sono quelli che costruiscono però hanno sempre dei contractor ossia delle aziende che costruiscono l'edificio che fanno le rifiniture e che mettono i vari pezzi come abbiamo sentito anche la tua marotta prima della realtà delle serramenti e quindi ecco qui che ci sono queste due opportunità e il mercato è ancora ancora in fermento e c'è ancora tanto da fare se uno chiede dove è Dubai c'è ancora opportunità siamo in ritardo non si è mai in ritardo il ritardo è normale che uno dice quello che era ieri abbiamo perso il treno ma c'è sempre da fare la città si evolve la popolazione sta aumentando nel 2003 eravamo 900.000 persone abitanti oggi siamo 3 milioni e mezzo quindi abbiamo triplicato e c'è un piano dello SCEIC del 2040 di arrivare oltre i 6 milioni di abitanti ma inoltre ha il suo piano di far diventare nel 2040 la star migliore del mondo questo naturalmente con i vari settori da portare la qualità in tutti i vari settori quindi l'importante è come dicevano anche gli altri interrogatori precedenti che se uno vuole divenire ma deve venire pensando di rimanere qua in pianta stabile di aprire gli uffici di essere presenti con l'aiuto delle persone che sono già qui che fanno questo lavoro in modo professionale ma c'è tanto da fare si può fare se uno vuole c'è tanta opportunità e c'è bisogno della qualità e del made in Italy rimango per so che si è fatto tardi che il congresso è andato abbastanza per lungo e c'è un'altra persona che mi seguirà però rimango qui per qualsiasi altro domanda grazie grazie a te Fabio grazie per aver dovuto la pazienza da aspettare fino a quest'ora prego eccoci qui buonasera buonasera a tutti io sono Vaccarino Emanuela e mi occupo di property management allora un pezzettino di presentazione in realtà me l'ha già anticipata Fabio grazie rispetto a quello che è un discorso di mercato immobiliare che ha avuto un booming dove si posiziona la mia figura io innanzitutto sono qui anch'io da qualche annetto dal 2006 quindi fra poco compio la maggiorità 18 anni e ho iniziato come Fabio a essere un broker in una agenzia immobiliare quindi a lavorare per terzi e nel mercato che era in pieno booming del 2006 quando appunto è uscita la legge che Sheikh Mohammed ha voluto emanare sul possesso degli immobili anche da parte di investitori stranieri non solo persone residenti negli Emirati quindi Emiratini ho venduto tantissimo presso questa agenzia e il mercato come giusto che fosse adesso vi condivido qualche slide ha deciso di maturare nella giusta direzione e quindi di avere la necessità di una figura quale la mia di gestione di questo immobile perché come già ha anticipato il collega Fabio ci sono un po' di vediamo se riesco a fare hello how to share the screen eccolo qua allora vediamo la presentazione un secondo eccoci qua vedete il mio schermo io ho un'azienda la mia azienda si chiama M.K. Property Solution e ovviamente si occupa di Property Management che cos'è il Property Management come ho spiegato prima è la naturale conseguenza di quello che è un mercato maturo e quindi dopo anni in cui sono stati veramente buttati sul mercato da diversi developer un sacco di immobili la naturale conseguenza appunto è stata quella di avere la necessità di una figura quale è il Property Manager di cosa si occupa il Property Manager ovviamente dell'amministrazione e della supervisione di proprietà immobiliari per conto di proprietari che possono essere sia residenti negli Emirati che anche residenti all'estero nelle ore precedenti è stato già parlato insomma è stato già elencato che Dubai è in una posizione strategica che ha un clima favorevole agli investimenti e ovviamente che ha una crescita economica di tutto rispetto a me interessa mettere luce anche su quello che è il Golden Visa che è un'altra iniziativa che il governo emirativo in tutti e sette gli Emirati tra l'altro ha dato voce negli ultimi anni ovvero il Golden Visa il Golden Visa perché ve ne parlo perché ovviamente è legato all'acquisto di un immobile e perché questo ha favorito a tantissimi investitori la volontà di voler venire ad abitare negli Emirati ed entrare e uscire dal paese in maniera più agevole e questo aiuta tantissimo comunque anche l'economia e la crescita economica del paese un sacco di investitori con i quali io ho a che fare acquistano un immobile lo lasciano adibito a questo Golden Visa e entrano escono dal paese in maniera agile e il resto degli immobili oppure più di un immobile perché comunque il valore dell'immobile deve essere 2 milioni di dirham che rispondono a 500 mila euro ma in ogni caso questo valore può essere splittato anche in più immobili per la richiesta di questo Golden Visa ovviamente col Golden Visa si possono sponsorizzare anche la famiglia quale la moglie e i figli nonché anche i genitori quindi i suoceri o i genitori insomma dello sponsor quali sono i compiti principali di un property manager ovviamente mettere in pubblicità attraverso canali siti istituzionali che ci sono qua a Dubai le proprietà spessissimo io mi avvalgo di colleghi come Fabio Lombardi per mettere appunto in pubblicità gli appartamenti che mi vengono dati in gestione e affittarli affittarli che cosa significa e qui entra in campo un po' anche un discorso di aziende che aprono sul territorio emiratino piuttosto che di dipendenti che vengono mandati a lavorare sul territorio perché spessissimo colleghi che sono stati presenti anche durante questo intervento di oggi mi chiamano e mi chiedono Manuela hai qualche casa per il manager di l'amministratore e quindi avendo un portfoglio appunto di immobili che gestisco da qualche anno e che vanno aumentando devo dire negli ultimi anni ho sempre nel mio portfoglio un certo numero di immobili che posso adibire a questo tipo di servizio di che cosa si occupa un property manager si occupa anche appunto della gestione degli affitti e della contabilità dell'immobile stesso io ho nella fattispecie un software e una app che i miei clienti scaricano e che possono ovviamente utilizzare per verificare tutto quello che è la gestione appunto degli affitti spesso mi chiedono di richiamare all'ordine non spesso devo dire la verità però se succede insomma sono quella che va a sollecitare i pagamenti degli inquilini oppure controlla che comunque siano andati a buon fine o intervengo in caso in cui l'inquilino mi dice per favore puoi avvisare il proprietario che questo mese anziché pagare il 30 pago il 2 insomma di avere un minimo di ritardo quindi anche proprio la gestione degli affitti è un compito del property manager nonché la manutenzione e la cura delle proprietà perché è importantissimo e io ci tengo tantissimo Fabio ha accennato che purtroppo alcuni developer non sono prettamente a livelli qualitativi chiamiamoli europei io ci tengo a prendere quando un proprietario di casa ha acquistato un immobile a prenderlo fin dal momento dello snagging questo perché perché quando il proprietario di casa riceve le chiavi direttamente dal costruttore c'è un controllo da fare ed è un controllo che non è solo concernente magari la piastrella sbeccata o l'armadietto della cucina che non si chiude ma anche proprio un discorso che ne so di pulizia anche dei filtri dell'aria condizionata che vengono utilizzati durante tutta la fase della costruzione di un immobile e spessissimo in questi anni visto che ormai sono quasi 18 questo qua mi è capitato di una casa nuova di pacca consegnata anche da developer quali e mar avere perdite veramente notevoli perché perché i filtri della condizionata in fase di snagging non sono stati debitamente puliti o comunque non è una cosa che è stata richiesta da parte del proprietario di casa perché perché non viene in mente perché è più importante magari appunto verificare che la finestra si chiuda correttamente e quindi il mio lavoro si va a posizionare sicuramente nel secondary market come accendava Fabio Lombardi quindi sicuramente in quello che è il settore delle case pronte ma anche nella fase iniziale di consegna proprio delle chiavi o in fase successiva perché comunque mi è capitato di avere clienti che mi hanno contattato e mi hanno chiesto ho questo immobile non so a chi affidarlo oppure avevo questa persona che mi gestiva questo immobile ma non sono felice e quindi mi chiedono appunto di subentrare in questo tipo di gestione che cosa avviene anche avviene purtroppo e anche a volte la gestione delle controversie e quindi se c'è comunque una comunicazione da fare all'inquilino che equivale anche all'aumento dell'affitto vengono gestite dal property manager che si pone appunto tra punto tra riunione tra il landlord quindi il proprietario di casa e l'inquilino finale nonché appunto magari ci sono controverse legate al mancato pagamento degli affitti e se ci sono controverse legate al mancato pagamento degli affitti e quindi problemi finanziari scusate sono già andata oltre problemi finanziari ecco che si interviene all'endepartment hanno istituito di recente anche il rental dispute center e se un inquilino non paga perché è una domanda che mi fanno spesso cosa succede se l'inquilino non mi paga niente c'è un sistema assolutissimamente efficace ed efficiente si interviene si dà immediata comunicazione attraverso questo special department che è all'interno del Dubai Land Department che è una corte settata apposta per questo tipo di dispute con gli inquilini vi posso garantire che il sistema è assolutissimamente efficace ed efficiente e si ha uno sfratto esecutivo praticamente immediato le poche volte mi è successo comunque di dover fare uso cos'è importante anche dal punto di vista di una gestione completa da parte del property manager e anche valutare di voler proporre a un proprietario di casa una home insurance perché? perché il valore dell'immobile va preservato e quindi in caso di perdite incendi ho avuto anche allagamenti soffitti che si sono rotti da parte dell'inquilino piano di sopra o malaguratamente magari proprio dal casa di uno dei miei investitori e in questo caso con l'assicurazione è possibile intervenire perché? perché copre ovviamente la third part liability quindi la parte terza di responsabilità ed è importante fare sempre un home insurance anche perché garantisce il valore dell'immobile as per title deed e purtroppo è successo è successo anche di recente in casi anche di incendio o comunque di danneggiamento veramente da non poter utilizzare l'immobile e in questo caso non solo l'insurance del building stesso ma anche un'insurance individuale per l'immobile da parte del proprietario di casa è indicato a mio avviso una cosa interessante che ovviamente è fattibile è anche la gestione del pagamento delle utenze delle spese del condominio e ovviamente dei servizi di manutenzione da parte del property manager anche in caso in cui i proprietari di casa non risiedano negli emirati o anche nel caso in cui risiedano negli emirati ma non abbiano né voglia né tempo di occuparsene ecco questo rimane il mio compito una domanda che mi fanno spesso e qui parlerò prettamente di immobili che io detengo in gestione qual è il ritorno sull'investimento il ritorno sull'investimento in alcune aree che io gestisco average quindi mediamente per business bay ho fatto la media di contratti di affitto registrati rimane il 5,6% al netto delle spese del condominio pagate che a Dubai sono sempre spettanti al proprietario di casa Dubai Marine al 6,7% e come ultimo in lista abbiamo la Palm Giumera che per quanto sia molto bella purtroppo ha un rendimento più basso ringraziamo ringraziamo scusi dottoressa purtroppo ormai l'orario è tardo la ringrazio per il suo intervento puntuale mancava solo una slide avevo finito sì grazie grazie ringrazio dell'opportunità di essere di essere stata qui comunque adesso esco dalla condivisione dello schermo così mi vedete niente ringrazio davvero l'opportunità di essere stata invitata e ascoltata rispetto a quello che è il mio lavoro negli Emirati grazie ringraziamo lei gentilissima grazie grazie chiudiamo con la dottoressa Maria Teresa Cardinale di Simest per un breve intervento di chiusura grazie buonasera a tutti intanto grazie veramente un minuto volevo porre l'attenzione rispetto a quello che ha detto la mia collega Gabriella Severi su diciamo chiamiamolo lo sportello di finanza agevolata che si è aperto a marzo e si chiude ad ottobre che prevede una grossa sinergia con i commercialisti e con i revisori per questo ci tenevo insomma a sottolinearlo allora si tratta di uno strumento di finanziamento di sei anni di cui due di preammortamento che è collegato ai paesi della guerra quindi Ucraina Russia e Bielorussia in che senso le imprese devono dirci che nel 2020 e nel 2021 hanno avuto un import anche in diretto purché maggiore di zero verso uno o tutti questi tre paesi per materie prime semilavorati prodotti finiti ora facendo mente locale anche le imprese siciliane hanno necessariamente un import indiretto da quei paesi lo hanno avuto perché parliamo di zucchero olio di semi di girasole parliamo di fertilizzanti parliamo di farina di grano tenero di mangimi di accioio di alluminio quindi diciamo agroalimentare fino a metallurgia per cui siccome già al momento della presentazione e la domanda serve l'asseverazione del revisore su questo ammontare in euro di import del 2020 e del 2021 effettivamente vedo una grossa sinergia in più lo strumento arriva a 2 milioni e mezzo di euro di cui 40 a fondo perduto che vengono imputati al temporary crisis quindi è un massimale che sarà in vigore fino al 31-12-2023 per cui allora l'impresa può richiedere al più un ammontare che equivale al 25% del fatturato medio dell'ultimo biennio però un'impresa che abbia 10 milioni di fatturato medio nell'ultimo di biennio può chiedere il massimale di 2 milioni e mezzo di cui fino a un milione a fondo perduto che imputiamo dentro questo massimale legato alla guerra quindi volevo solo sottolineare questo poi per il resto non sono arrivata a parlare con molti di voi se chi insomma vi do velocemente il mio contatto email milanotorino.cardinale chiocciolasimes.it vi ringrazio tantissimo grazie dottoressa grazie a tutti voi per avere partecipato a questo convegno ce l'abbiamo fatta sono le 8 precise e allora grazie a tutti alla prossima grazie a tutti 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 Grazie. 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 Grazie.